Siete usciti dalla fortezza della Rupa del Corvo, avete compiuto un massacro, forse pari solamente a quella volta, nella fortezza di Brinwall. Sotto certi aspetti le due occasioni si eguagliano. Eppure però siete persone diverse, siete cresciuti nell'animo e nello spirito. Akira ha cambiato quasi radicalmente la filosofia di combattimento. Passate a riprendere Kay e Shalelu, che vi hanno aspettato all'esterno della fortezza. Avevano montato un accampamento, ma a quanto pare si sorprendono di vedervi già sulla via di ritorno. Saranno passate due ore al massimo. Siete entrati, avete ripulito la zona e siete usciti poco dopo. Insieme a loro vi mettete in viaggio verso Kalsgard. C'è chi scambia qualche parola e c'è chi invece mantiene un silenzio quasi imbarazzante, introspettivo, per certi versi. Chiaramente non mancano le domande su quella creatura imponente che vi segue. Ma promettete che vi sarà una spiegazione al campo con gli altri. Chiaramente, come è l'andata, mettete solamente un giorno di cammino dalla fortezza alla città. E il lupo, nei pressi della città, già quando iniziano ad esserci i campi coltivati, si fa indietro. Rimane, diciamo, nella selva. Come potrò richiamarti quando partiremo? Lui, ti osservo un attimo, con quei suoi occhi gelidi, impenetrabili. Vi troverò io. Perfetto. Allora, non fare troppo casino. Il lupo non sembra quasi che abbia, in qualche modo si sia fatto una pelle dura in relazione alle tue battute. Probabilmente anche durante il viaggio ogni tanto sparavi qualcosa del genere. faceva un'uscita così goliardica al lupo. E lui, in questo tempo, ha imparato, quantomeno, a non incazzarsi. Un bravo lupo ha chiatto. Allora. Siamo al campo? Sì, entrate nei cancelli della città. Chiaramente sempre nel quartiere delle ossa, dove era stazionata la vostra caravana. Guardate intorno, arrivate all'accampamento e lo trovate completamente deserto. Come se fosse stato abbandonato da poco. Come se fosse stato abbandonato da un momento all'altro. Tutte le cose che erano state tirate fuori sono ancora lì. Il pentolone sul fuoco. Magari qualche coperta sparsa in giro per l'accampamento. Ceppi di legno, chiaramente predisposti per mettersi a mangiare. I carri che non sono chiusi. Insomma, è stato abbandonato di getto, chiaramente. Ma solo questo accampamento? Il vostro? La vostra caravana? Cosa significa tutto questo? Mi cerco in giro delle tracce per capire se sono state lasciate le tracce. Ok, fammi una prova di survival. Io do anche un'occhiata verso Chalelu. Fatemi anche percezione. Io vado verso qualcuno nei carri vicini a chiedere. Chalelu si guarda intorno. È quasi sconvolta. La sua espressione attonita che osserva il carro, la caravana, è come se cercasse di tornare dentro nel tempo per impedire qualsiasi cosa sia successa. In fondo, Chalelu si è sempre vista un po' come la guardiana protettrice sia di voi che dei vostri compagni. Se dovesse succedere qualcosa, non solo questo non lo rende mai. Allora. Akira, ti osservi intorno con sguardo analitico, ti sforzi di non andare su tutte le furie, di non lasciare che le tue emozioni prendano il sopravvento. Noti dei particolari sulla caravana, dei piccoli graffi, delle tracce sul terreno, tra stivali che si dirigono verso le porte interne della città. Insomma, tanti piccoli particolari che nel complesso ti fanno capire che qualcuno è venuto a prendere i vostri compagni con la forza. Sono stati trascinati via. Bisogna capire dove li hanno portati. Qualcuno li ha presi e li ha portati via. Io, come ho detto, mi sono allontanato, visto che è molto affollata la zona, volevo chiedere alla gente che era vicina. Sì. Devo fare diplomazia? Comunque, mi sa che tu, Andrea, mi fai eco. Io? Sì. Devo tirare diplomazia? No. Ah, ok. Ti avvicini alle altre carovane. Ti guardano con fare preoccupato. Sai che, come ti trattavano, cioè, prima ti trattavano, ti trattavano in maniera piuttosto schiva, ti guardavano quasi tutto alto verso il basso, come se, come se ce l'avessero con voi. Mentre adesso, negli occhi delle persone, dei barisiani, vostri fratelli, c'è uno sguardo d'apprensione, c'è uno sguardo di rivolta. I sopprusi di Karlsgaard, della legge di Karlsgaard, stanno ribollendo nel pentolone, come se da un momento all'altro fosse pronto a scoppiare. E i barisiani, da un giorno all'altro, come se questa fosse stata la miccia che ha fatto scoppiare la polveriera, sembrano di colpo interessate alla loro condizione precaria nella città. Ti raccontano che sono venute delle guardie, un contingente di 40 persone, a prelevare, tra virgolette, i vostri amici, senza spiegazione. Hanno cercato di combattere, ma sono stati sopraffatti, chiaramente. Alcune di queste guardie portavano sull'armatura il simbolo regale di Svein, aquila sanguinaria. Erano le guardie d'elite del reddito allo scarto. Adesso pure il reddivo ammazzare. Non pensa, un barbaro 18. andiamo a cercarli. Andiamo a cercarli. una cosa del genere. Vi mettete in cammino per arrivare verso il castello reale, quando è la porta che separa il quartiere d'osso col quartiere d'ambra. aspetta, mi pare che ci mettiamo la mappa di 3. Esatto, esatto. No, alla porta che separa. In realtà non c'è porta, c'è direttamente il castello, niente. Praticamente, vedete quei campi nel quartiere dell'osso, lì, dove siete accampati con la feromana. non appena entrate in uno dei più agglomerati di case svoltando un piccolo, vi trovate un contingente di guardie che sta venendo verso di voi. Quante? Fammi una prova di percezione. Possiamo farla tutti? Sì. Saranno all'incirca una cinquantina di guardie tra tutti. Io metto una mano davanti ad Akira, lo guardo, credo che non potrà andare come l'ultima volta. Le guardie si avvicinano verso di voi con un passo imperante. Io faccio qualche passo avanti cercando di individuare quello che sembra di rango più alto. ne trovi uno. Mentre li osservavi per pergiudicare il numero ti sei guardato un po' hai guardato un po' nei loro ranghi e effettivamente ve ne è uno più alto degli altri con un'armatura completamente fatta di pelle bianca. Sulla spalla porta la testa enorme di un lupo invernale. il nostro amico non è qua sarà per quello che non è voluto entrare. Mentre le guardie mi stanno accerchiando vertiginosamente questa questo individuo imponente si avvicina con passi lenti verso di voi una cicatrice sull'occhio. Gli faccio un saluto militare. Lui ricambia con un sorrisino di scherno si posiziona di fronte lo faccio con diplomazione nel senso che vuole essere un modo per fargli capire che non ho intenzioni ostili e che sono disposto ad ascoltare tutto quello che bisogna di dirci. Come dicevo si ferma di fronte a te e ti osserva con coi suoi occhi pieni pieni di aggressività uno di essi tra l'altro è completamente bianco ti fa quasi impressione riesci a vedere le miriade di battaglie nel suo nel suo volto che questo non ha combattuto considera che è alto almeno una spanna anche di te cioè la tua testa sicuramente altissima rispettivamente se la tua testa gli arriva al petto praticamente tu anche l'essere di alto quasi quanto tu minimamente provo non mi tange cioè provo rispetto tolgo l'elmo si tolgo l'elmo non faccio capi che non è normale quindi lo tolgo come se fosse nel mo normale e sgancio la maschera lo guardo con rispetto proprio è sicuramente un nobile un nobile un guerriero quanto sia nobile nella sua arte non lo so lui si gira guarda cioè si gira con lo sguardo osserva i suoi sottoposti e poi posa lo sguardo su di voi buttate le armi a terra sono impossibilitate avrebbe qualcosa tipo un mandato non saprei so che le leggi da queste parti sono differenti ma vorrei almeno capire perché lui batte prepotentemente il dito sul petto dove sulla sull'armatura di pelle è inciso è ricamato il lo standardo del del suo signore il re stesso in persona domanda le guardie eh vai prima le guardie con cui avevamo combattuto non avevano lo stemma specifico erano guardi cittadini queste qua potete farmi una prova di conoscenze locali si la faccio io sono guardie personali del del re quindi affari grossi diciamo osservo nuovamente i suoi sottoposti e gli intima di legarvi praticamente le mani dietro la schiena prima che possiate reagire scattano verso di voi io guardo guardo a tipo che nessuno di noi ha buttato le armi io guardo akira faccio tipo no faccio un cenno dà senso nel senso faccio sì con la testa e gli dico seguiamoli io sto aspettando che parli non ho fatto niente comunque in realtà ti spiego per come essere apposta town una bordo scontata che avrebbe consentito la richiesta poi vabbè se mi fossi sbagliato beh in realtà le armi io non le ho toccate questo nel senso per me l'abuso dei poteri comunque è sbagliato prova a prenderla adesso prova a tirarla fuori eh non la estrago ecco insomma no faggiela prenderla allora vediamo cosa fa eh il capitano delle guardie mentre nel momento in cui tu sembri deciso a non a non riporre a non porvi l'arma ti osserva incagnesco mette la mano sul fodero di Swishen e strappa direttamente il fodero dalla cintura io l'osservo molto male cioè nel senso come dire bambino cattivo però cioè nel senso lo so che detta così sembra una buffonata nel senso proprio con lo sguardo del rimprovero se prima lo guardavo con rispetto adesso lo guardo con rimprovero si ho capito come come un mentore quando vuole rimproverare magari il suo allievo si tipo se non gettate le armi fanno la stessa cosa anche con voi per esempio chiaramente vabbè last room di no no io ti la do quando vedo che altrimenti me lo straffano ti la do ok shalelu di canto suo sembra un po restia a dargli l'arma ma poi non può evitare ecco di farlo faccio faccio cenno a keid a secondare le guardie keid non è con voi ah si cazzo è con voi si 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 c'è un imaru c'ha c'ha si c'è l'erro ho appena detto c'è anche elgervall che forse non è neanche riconosciuto no elgervall l'ho detto che l'ho messo l'ho tolto come un un elmo normale si si elgervall di canto suo non ha detto niente a proposito non ha non si è rivelato e spyby invece è sempre nascosta nel tuo taschino impaurita come ho già detto concede l'arma a malincuore e kei fa lo stesso le guardie senza dirvi niente vi scortano con le mani legate verso il castello cosa fai? pensavo fa sempre slegarsi eh infatti no no il mio tono di voce sconvolto ma cos'è quello? prova tra l'altro è una skill che nel tuo sistema sa come si tira perché non vengono utilizzate e beh comunque vi portano verso il castello reale praticamente passando dalle mura della città montate sopra e vi fanno fare sì per i comuni cittadini però loro sono guardi vi stanno ascoltando al castello tra l'altro una cosa importante da da ricordare è che le mura sono un passaggio ben più sicuro e veloce al castello stesso di quanto non lo siano le strade nessuno può provare diciamo a deragliare le guardie una volta che sono sopra le mura osservate la strada militare della città sì osservate l'intera città sotto i vostri occhi le mura sono alte diversi metri e potete gustarvi per quanto chiaramente con una piccola punta amara la vista di Karlsgard i vari quartieri che si dividono le mura stesse su cui state camminando che segnano un'enorme differenza tra una topaia come il quartiere d'osso e un quartiere relativamente pulito come quello di pietra la differenza che si ammassa sulle mura come se cercasse di di espandersi verso il quartiere opposto come se fossero in una perenne lotta per l'espansionismo questa lotta chiaramente è destinata prima o poi a scoppiare veramente come avete visto negli occhi dei palisiani qualcosa sta bollendo arrivate alle mura del castello reale una fortezza imponente di pietra forse una delle più grosse che voi abbiate mai visto supera ampiamente la fortezza di brinwall non parliamo di quella della rupe del corvo non riuscite nemmeno a vedere la fortezza interna tanto che le mura sono alte tra fatemi una prova di percezione fischietta c'è è Akira che sta fischiettando in modo fastidioso ok e vabbè 4 e invece sui bastioni delle mura su i vari i vari tornanti che vi sono notate degli smussamenti dei dei buchi anche molto molto grandi come se fossero stati fatti da balliste che sono state scagliate frecce dardi di ballista che sono stati scagliati contro le pareti della città della la città fortezza che è a conti fatti il castello del re è una specie di di piccola città all'interno di una città ben più grande che tipo di corda è con quella con cui ci hanno legato è una semplice corda in realtà di di canapa che scarsi del genere che viene in bando con 25 soldati chiaro che è un po' esatto il problema è una corda magari rifinita e tutto però è sempre di canapa non sono venuti a prendervi con la corda di seta dentro le manette si esatto anche perché a kalsgaard non ci sono le manette entrate all'interno delle mura venite inglobati da un attimo a quell'altro da una serie di tunnel ombrosi leggermente freddi come se si stessero addentrando negli abissi più profondi camminate per un svariato periodo di tempo come se effettivamente stesse voi come se stesse circunnavigando l'intera fortezza no le mure della fortezza potete farmi una prova di ingegneria oppure storia ok oppure una domanda Andrea ma gli oggetti che abbiamo comprato li hai considerati come se li avessimo comprati adesso in questi minuti in città quindi non ce li abbiamo no la voglia ho detto ok me l'ho perso forse ero stato bannato in quel momento no l'ho detto su facebook comunque fatemi sta prova o ingegneria o storia anche no Aidan una costruzione del genere probabilmente è stata fatta per assicurare un intervento più rapido delle guardie in città nel senso che vi sono tu ipotizzi che all'interno di queste mura enormi del castello vi siano diversi tunnel del genere che consentono della cittadella interna di uscire e di spiegarsi sul territorio da entrate e uscite diverse perché probabilmente ogni collegamento con le mura cittadine ha il suo cunicolo d'ingresso venite scortati ancora per un po' all'interno di questi tunnel fino a quando di fronte a voi non si apre maestosamente la fortezza di Israein un complesso di edifici di pietra e legno che si ergono per decine di metri sopra la vostra testa vi è una piazza principale tendenzialmente rozza di fronte al castello in generale vi ricorda lo stile uno stile abbastanza spartano nella costruzione in sé non vi sono fronzoli vari completamente di pietra nuda l'unica cosa che addoppa le pareti della fortezza sono degli standardi che raffigurano un'aquila rossa chiaramente il simbolo di Israein vi portano all'interno della fortezza due grandi ante si aprono di fronte a voi cicolando un'enorme sala addobbata con vari standardi al muro finestre candelabri bracieri in generale sempre con quest'area un po' un po' nordica no luce affusolata slebile un un grande tappeto rosso collega all'ingresso con l'enorme trono di fronte a voi a circa 50 metri di distanza il trono non non c'è dubbio è probabilmente la dimostrazione di potenza più lampante all'interno della sala un po' di compensazione si erge per almeno 5 metri no non è un trono di spade è un trono di teschi umani un trono di teschi umani centinaia di teschi si sono sono accumulati per formare questa costruzione artistica alquanto si di dubbio gusto macabra decine di guardie con il simbolo dell'aquila sanguinare sul petto sono in posizione nella sala venite portati di fronte al trono qualche metro prima però venite buttati a terra di prepotenza le vostre le vostre mani non vengono liberate ma vengono aggiunte anche delle delle catene di ferro per chiuderle sia alle mani che ai piedi e poi basta una una delle guardie ti tira una sberla sulla faccia oh no papà ancora peggio fai di più Akira il capitano delle guardie si si china di fronte a te Akira e ti osserva sorridendo cosa credi di dimostrare eh cosa cosa pensa di ottenere si io cosa pensate di ottenere voi così tu subirai un processo insieme ai tuoi compagni un processo per cosa esattamente silenzio lo scoprirete a tempo debito ah quindi neanche un'accusa vera e propria dovremmo la corda al collo fratello bella giustizia lui ovviamente si alza fa dispiega le guardie intorno a voi quelle in eccesso le le manda in altre postazioni e poi si si avvicina al trono posate lo sguardo sullo scranno di fronte a voi attualmente è vuoto ma praticamente qualche istante dopo che vi siete vi siete inginocchiati anzi vi hanno fatto inginocchiare siete lì con delle guardie alle spalle che vi tengono fermi voi in chinocchio con le mani legate tra la schiena come dei peccatori come i demoni più effimeri dell'abisso che stanno per subire un processo divino da uno dei lati vabbè anche sì è vero i demoni non sono effimeri però sono mortali da una delle porte laterali al trono entra una figura alta muscolosa sicuramente con una portanza degna di un re lo riconosciete subito deve essere lui Zayn porta dei capelli grigiastri legati dietro la schiena una barba lunga ben curata delle pellicce di di qualche animale esotico di queste terre lo ricoprono completamente e in cima sul capo chiaramente la corona reale va a posizionarsi sul trono di fronte a voi e ti osserva con sguardo severo sapete perché siete qua no in vero no mio sir a proposito di mio sir e cose del genere io so come rivolgermi a lui in modo formale fammi una prova di nobiltà devo tirare o basta avere un grado per sapere come ci si rivolge a un re devi tirare perché tu vuoi sapere come ci si rivolge a questo re in particolare ok so anche il cognome del cugino cioè in realtà il cognome è lo stesso quindi allora parlate solo se interpellati chiaramente in particolare non pronunciate qualsiasi cosa che possa offenderlo non fate commenti sulla sua gente non non parlate male in alcun modo della fede dei regni dei re l'innorm e non fate movimenti bruschi mentre vi trovate di fronte a lui ok ok allora visto che savo tutte queste cose magari conoscendo mio fratello prima che tipo entri il tizio faccio un piccolo ripassino di nobiltà le cagli il culo potevi dire cercare di avere tazzo vorrei evitare di essere impiccato prima del tramonto cercare di non toccarlo beh lui vi chiede appunto se sapete se siete qua la vostra risposta perché siete qua la vostra risposta negativa vi osserva una vena sembra punzare sulle sue tempie fa una smorfia con la bocca assalto a guardia cittadina irruzione assalto in molti più cittadini e furto in proprietà privata omicidio omicidio plurimo in proprietà di noiarla omicidio di noiarla queste sono i capi di accusa che gravano sulla vostra testa avete qualcosa da dire in merito lo yarla era oggetto di un guidricildo l'abbiamo riscosso nel rispetto della legge del posto l'introduzione dentro nel vostro come l'avete chiamato? ah luogo privato era parte del i correri di brina si i correri di brina che ahimè erano demoni e quindi comandati da demoni e dentro lo mio zaino ci sono le loro teste e dentro questi bei posti forgiavano lettere di ingaggio delle vostre simpatiche guardie perché sai potessero assoldarli al loro modo ma erano falsi perché ci siamo accorgati mi fate percezione quindi più che più che aver fatto tutte queste cose che dite voi piuttosto guardo Akira in questo momento comunque quando dice piuttosto lo guardo con lo sguardo allora sì Akira ti rendi conto che in un angolo della sala in cui vi sono diverse persone ammassate che prima non avevi notato vi è anche quella strega che avete risparmiato quella notte durante l'eruzione in casa di Alvec sua moglie Elva si trova insieme a quel gruppetto probabilmente di nobili persone di spicco influenti nella società di Karlsgaard sono lì chiaramente per giudicarvi giudicare l'operato del re assistere al vostro processo e alla vostra chiaramente esecuzione cosa rintenibili con giudicare l'operato del re nella società dei re dell'innorm in queste terre ciò che che vale di più è la la forza di una persona si si giudica tutto in base alla forza e questo si rispecchia anche nel modo di parlare del nel nelle come si dice nei processi stessi il modo in cui si pone il modo la punizione che dichiara che i processati devono subire questo genere di cose chiaramente lo giudicano per modo di dire sono si trovano lì perché sono la nobiltà del posto dunque tu tu Akira apparente si hai detto piuttosto lui ti osserva mi vuole far continuare io invece ho tipo la faccia di chi vorrebbe fare un'aggiunta falla falla non è che devi aver il più permesso vabbè però ad ogni modo le prove di ciò che dice mio fratello le abbiamo con noi sono parole al vento registri delle truffe e degli spostamenti illeciti nonché le lettere falsificate di come che si diceva le lettere di ingaggio le lettere di ingaggio falsificate e con tanto del suo sigillo chiaramente falso anche quello vostro sigillo scusa i resti dei vari demoni uccisi il re si si liscia la barba è appoggiato con un braccio sul sul manico del trono un po' svogliato sembra interessato a quel che avete da dire vi osserva con degli sguardi con uno sguardo vigile come quello di un falco o magari di un'aquila queste prove dunque le avete qua con voi annuisco si re le due teste sono nel mio zaino silenzio perquisitili le guardie iniziano a venire intorno e a mettere le mani un po' ovunque quasi vi spogliono vi folgono gli zaini cercano cercano all'interno e quando mettono quando mettono la mano in una delle tasche nascoste del kimono di Aidan probabilmente trovano spy la ferrono tra le mani la tirano fuori e lei la piccolina prova a dimenarsi e a urlare il re li osserva strabuzzando gli occhi cos'è quello ebbene sì si gli angeli sono con noi do un cenno ad Ergerval Ergerval si si innalza mentre in cielo prima che le guardie possano afferrarla io parlo secondo la volontà del mio signore samurai Tauno Amatatsu Draghichi ciò che i miei compari hanno pronunziato di fronte a voi sire non è altro che la pura verità io in quanto angelo promotore della rettitudine posso confermare le loro parole spy nel frattempo continua a dimenarsi a urlare e allora la guardia la scaglia per terra vedi di andarci piano spy veramente arrivata a cozzare quel pavimento inizia a rotolarsi per il dolore il re il re tipo alza la mano verso verso la guardia che ha buttato spy via terra stupido idiota chi ti ha detto di fare una cosa del genere la guardia prova a difendersi ma si re io in realtà portatelo via la guardia viene scortata fuori dalla sala piuttosto trepotentemente ma lo volevo nel frattempo nel frattempo spy viene raccolta la terra dunque gli angeli sono con voi si re abbiamo trovato una due test all'interno dei loro sacchi e un registro con apparentemente dei documenti come avevano detto probabilmente le teste vengono portate di fronte di fronte al re e i documenti li vengono porti in mano lui inizia a sfogliarli passano più o meno dieci minuti di completo silenzio niente si muove guarda che più intelligente di te è stronzo a questo punto ci guarda e dice cazzo non ci sono le figure beh lo richiude zitto l'unico bruzione della stanza proviene da dietro di voi in quell'ala in cui si trovano i testimoni la nobiltà dopo dieci minuti chiude il registro e vi osserva osserva pure i vari documenti gli altri documenti che avete portato il documento falso con la firma del re dunque questa è la verità ma come faccio come faccio a a credere alle vostre parole sulla base di un documento che potrebbe essere false il mio sire vi dico il capo delle guardie che dovrebbe ancora avere la mia spada potete sempre interrogare il grande sui shen aspetta ma con voi c'è anche il loot e c'è anche il wolf si beh si è dato per scontato che non fossero stati arrestati un xh non c'è si si non sono stati arrestati infatti però appunto vi ricordo che avete dalla vostra il loot che lui era un esponente dei correi di brina lui potrebbe confermare se i registri sono falsi come no beh è lì voglio dire se non parla no non è lì non è lì come ho detto non è stato arrestato quindi non è stato portato con noi no no esatto abbiamo abbiamo un testimone si re loot dico anche il cognome se ce l'aveva detto si 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 loot argerslight qualcosa del genere te lo dico il re riflette un po' su ciò che hai detto e praticamente manda un contingente a a reperire questo loot una nel frattempo voi venite congelati venite liquidati in una delle celle del castello per circa due tre ore probabilmente vabbè ma restano anche spai di leggerwald mmm si erano lì con voi quindi condividono un paio di manette già ce li voglio a mettere le manette all'elmo mi tartano le ali no vabbè un contingente di 40 un piccolo contingente di uomini che vanno a reperire loot più che altro si spargono in giro per la città perché è decisamente decisamente gross però chiaramente in frattempo attivo lifelink su su spy se si è fatta male si 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 è fatta male spy sembra essere molto risentito da ciò che è successo ma siamo tutti in la tessatella si ah ottimo cioè si è chiusi tutti insieme vabbè tanto si è legale ma siete siete qua come misura cautelare cioè non è che siete in prigione siete inferno per attendere il il testimone con le manette si in ogni caso questi non ci conoscevano poi così tanto voglio dire non mi hanno non mi hanno messo una niente alla bocca le manette erano manette normali avrei potuto evocare dei tentacoli sotto il re sarebbe rimasto bloccato così vabbè sarebbe stato controproviscente no? no certo certo però avrei potuto picchiarli con tutte le manette anzi usarle per strangolarli non stanno con chi hanno a che fare dopo tutto si basano sulle testimonianze di qualcun altro che era ubriaca grande e non solo cioè non lei dicevo probabilmente quando devo far pensare quando ha detto assalto guardia di torino si riferiva anche esatto con le guardie picchiate dopo qualche ora vi vengono a riprendere dalla cella e vi riportano nella sala principale le vie agli ut ad aspettarvi sembra essersi sembra essere spaventato Tim Rosso di ciò che sta per succedere sempre ancora debole tutta l'ordalia che ha subito fino a questo momento non gli è stato nemmeno dato il tempo di riprendersi che già si trova in un caso del genere più grande di lui posso estendere Laura di coraggio fino a lui in che senso nel senso che ah è 3 metri no è quello che volevo chiedere non mi ricordavo quanto è grande è 3 metri in ciò nonostante però gli ut fa ciò che deve essere fatto testimoni a vostro favore lui non era implicato nella nella faccenda dei coriari di brina però il re prende la sua testimonianza come una una dichiarazione di colpevolezza lui praticamente quando perché il giut fa da garante per per i sigilli dei coriari di brina però al tempo stesso il re pensa che che fosse implicato in questi in questi registri ciò che è scritto in questi registri e allora lo sentenzia a morte aspetta posso intervenire alzo la voce si potete intervenire chiaro chiaro ve l'ho detto alzo la voce e dico Sire era in prigione quando l'abbiamo trovato era stato catturato dai demoni in quanto voleva opporsi a quelle pratiche una volta scoperte vi chiedo umilmente diplomazia di non sentenziare una fine così drastica per un onesto cittadino che ha sofferto abbastanza e che attualmente sta cercando di collaborare aiutano si è tutto help 24 24 23 perfetto si il re sembra pensarci un attimo si si tocca nuovamente la barba la lunga barba bianca che sovrasta il suo pet e poi posa il suo sguardo su di voi in maniera più apprensiva di prima e poi sui loot se ciò che dite è vero e sono incline a credervi quest'uomo non ha colpa né peccate dunque io formalmente ritiro il capo d'accusa che grava sulla tua testa e lo rendo uomo libero nuovamente sei libero di andare le guardie scortano fuori loot libero di andare era più un invito alle guardie di prenderlo di peso e buttarlo fuori al portone del castello con quello ci dobbiamo riparlare dico sottovoce a tutti i clunani e poi posso lo sguardo su di voi sono stato ingannato guarda posso il suo sguardo sulla strega dietro di voi nella nella la quale in un istante prova a fuggere via dieci darti di balestra contemporaneamente perforano la sua schiena e cade a terra esanime lo ridaverme pensavo di fuggire all'interno della mia fortezza con la puttana non ha avuto scampo ha sprecato la sua seconda opportunità Sire non mi dico le parole di Akira per ciò che è successo non doveva nemmeno avere una seconda opportunità si meritava di morire nel guidre Gildo insieme a suo marito annunisco ancora più saldamente le parole delle abbiamo commesso un errore di valutazione sì l'importante è che adesso la questione si sia risolta mi porgo le mie scuse ciao tutto questo trambusto non è servito a niente solo a confermare che quella donna insulsa non era altro che una spina nel fianco della nostra città e dopo tutto è meglio così che se ne sia andata ma veniamo a voi voi avete sventato un'organizzazione con la quale facevo affari proficui al tempo stesso però vi avete impedito di manipolarmi prima che fosse troppo tardi prima che questa città fosse interamente nelle loro mani e adesso ahimè dubito che non fosse già così io sono vecchio ormai mi preparo per il mio viaggio verso Valenau ma questa è la mia città che diavolo mi sono fatto fregare così voi siete eroi di Karsgard avete salvato la città dalle grinfie malefiche di demoni e mostri i correri di Braina non verranno smantellati Liut per mio decreto prenderà posto del concilio come capo affarista e stasera vi sarà un banchetto in vostro onore nella mia fortezza saranno invitati i nobili le varie gilde mercantili e soprattutto anche i correri di Brina ho intenzione di fare una bella scrematura personale con loro inoltre vi vi dichiaro ufficialmente uscarli del regno di Svein aquila sanguinaria siete tra i pochissimi esterni alle nostre terre che ricevono un'onoranza simile potete considerarvi estremamente grati per ciò che vi sto offrendo annuisco è un onore Sire ricevere queste onorificenze vi faccio un breve accenno con la testa verrà costruito un monumento in vostro onore qua a Kalsgaard probabilmente nel quartiere dell'osso perché no così che tutti i cittadini di quelle catapecchie possano vedere la grandiosità la maestosità di persone che pur essendo state messe in una condizione di beta disagiata sono riuscite ad ergersi sopra gli altri con la forza e a vincere voi meritate la mia stima e il re si si alza in piedi siamo ancora legati no appunto aspetta il re si alza in piedi fa un cenno con la mano e le guardie gli slegano io faccio un inchino al re una volta libero poi mi avvicino cioè guardo la guardia quella imponente lui sta sta fermo di fronte di fronte a te accanto al trono con le braccia concerti e te serva non sembra rancoroso nei tuoi confronti alla fine stava solo eseguendo gli ordini reali si si ma nemmeno io lo guardavo con rancore con sfida semplicemente con aspettativa allora devi continuare ad aspettare perché questa espressione è impossibile sempre con l'inchinandosi un po' verso il re faccio mi uscire sarebbe possibile poter riavere la mia lama chiaramente chiaramente cori portagli la lama no cori cos'è beh non cambia il fatto che si suona come gigino cori una una delle guardie random per voi ovviamente ti ti porge il ti porge l'arma di di Aiden e tu lo guardi un po' ti è imbarazzato nel tempo stesso il il capitano delle guardie Thorwald si porta verso di te e ti ti cede la lama rispettosamente la la prendo come farai solitamente quando prendo la lama scusate sembrava un attimo annunisco cioè c'è una di rispetto verso il capo delle guardie tra invece l'altro cori proprio vabbè chiaramente c'era anche Onimaru da ricevere ma diamo per scontato che me le ridai in coppia si 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 tutte le armi che avevi insomma ti vengono ridate la spada swishen l'aveva il capitano delle guardie mentre le altre armi le avevano le varie guardie tra cui cori tra l'altro quindi alla fine appunto cori vi riva le varie armi e il capitano swishen comunque faccio un passo verso il re allargo le braccia e adesso mio sire vorrei sapere dove sono i miei compagni i vostri compagni sono stati tenuti nelle prigioni del castello come misura a calcolare sono stati interrogati e a appunto dovrò scusarmi con voi ma non ci siamo andati leggeri su di loro metto subito una mano sulla spalla di Akira infatti faccio un altro passo verso il re e lo trattengo con forza ditemi che avete fatto qualcosa alla ragazza quella con i capelli con i capelli bianchi il re ti osserva uno sguardo duro io non ero nella storia dell'interrogatore potete chiedere direttamente a torolf l'interrogatore posso interrogarlo? Akira hanno fatto solo il loro lavoro è così lo sai bene che hanno fatto solamente il loro lavoro sbagliate entrambi ma non è il momento di parlarne il re vi osserva con uno sguardo ambiguo perdonerò il vostro sopruso solo in virtù di ciò che avete compiuto per la città e farò finta di non aver sentito niente adesso dileguatevi vi farò trovare i vostri compagni fuori dalla fortezza con tutti i loro averi e stasera puntuali al vespre alla mia fortezza fuori faccio un ultimo inchiro venite scortati fuori dalle guardie praticamente qualche una decina di minuti dopo che aspettate mi vengono portati i vostri compagni l'intera l'intera comune aspettiamo da soli o aspettiamo con le guardie con le guardie vengono portati i vostri compagni di fronte all'ingresso della fortezza voi vedete sono sono emaciati in generale chi ha occhi neri ha abrasioni sul corpo perfino 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 coia non è stata risparmiata da queste barbarie sono tutti tutti colpiti in qualche modo nel fisico e nello spirito lì vi osservano con un'aria distrutta come se fossero state fossero stati i giorni non sapete quanto tempo sono stati rinchiusi lì voi siete stati lì a due giorni potrebbero essere due giorni potrebbero essere delle ore però il loro sguardo vi comunica nient'altro che sofferenza eppure però una punta di sollievo si riesce a intravedere i loro occhi come vi scorgono guardo un attimo Kay lo mi avvicino lì faccio dai una mano accoglie Kay ok fammi percezione Kay ha un'espressione piuttosto neutra fin troppo neutra per la situazione anch'io vado da coia comunque e tu durante l'interrogatorio del re hai notato una punta d'ammirazione nei suoi confronti la parte di Kay cioè verso il re dici sì verso il re vabbè ci può stare sempre un re poi ce ne parlerò adesso è importante che segua gli ordini proprio non glielo ho detto con con carini impari a capire che ci sono ordini a seguire i ordini da mandare in culo beh andate verso i vostri compagni osservi osservi una delle unghie una delle unghie di america è mancante corro da lei nel senso quando la vedo si corri da lei vi stringete in una morsa un abbraccio quasi 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 la stritoli da tanto che che l'abbracci forte lei ricambia l'abbraccio però ti comunica anche che la stai uccidendo si si fa in getro si scrunchisce le spalle come se gli avessi decomposto due costole due vertebre dalla schiena e poi ti osserva uno sguardo tra tutte lei è quella che porta ha sempre questo apportamento così così grazioso e al tempo stesso superbo degno di di una principessa di un'imperatrice però lei non lo fa con malizia è più una caratteristica naturale che si porta dietro e anche in questo momento così tragico così doloroso lei tra tutti è quella che si sforza di sorridere siete venuti a salvarci siamo tornati troppo tardi a quel momento tornare prima non è colpa vostra io ci hanno preso ci hanno trascinato via come se fossimo dei pezzetti comunque ci hanno portato in una prigione buia nel frattempo venite scordati fuori dal castello dalle guardie vi buttano praticamente nel quartiere dell'osso cioè tipo uno dei cancelli principali della fortezza se c'è qualcuno che non ce la fa camminare per le sue condizioni di donna mano se posso lo prendo un braccio cioè spalla sì c'è c'è coia che accusa una coia come ho detto ci sento io sì 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 scusami adesso comunque c'è coia che accusa e gli altri tutto sommato la riescono a cavarsela ah in po in po è quello che tra tutti lo porto in spalla coia ti osserva Aiden uno sguardo uno sguardo del genere sul suo volto non l'avevi mai visto uno sguardo pieno d'angoscia uno sguardo che non volevi vedere sulla tua madre traduttiva e soprattutto lei non si aspettava di vedere di portarsela sul suo volto durante questa come lei la definiva avventura l'avventura si è trasformata per lei in un incubo uno dei peggiori venire torturata così è l'apoteosi l'apoteosi di tutto ciò la cui Desna va contro io l'abbraccio delicatamente che cosa vi hanno fatto quando è successo un giorno fa sono venuti a prenderci di notte abbiamo cercato di ribellarci ma erano troppi e ci hanno picchiato ci hanno portato in una prigione in un sotterraneo è un tipo scopo ma che non riesco non riesco ci hanno torturato non serve non serve continuare se abbiamo capito cosa vi hanno fatto torniamoci nella carovana e cominciamo a fare i bagagli per levareci a questo posto di merda non gli date la bella notizia saranno felici di sentirla stasera accenderemo all'inferno in realtà tipo Akira non ci sta appunto pensando ma quale buona notizia che siamo stati invitati al banchetto ragazzi si scappa stasera sbocciamo beh ritornate siamo invitati tutti tutta la carovana si 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 ritornate al al quartiere dell'osso camminate le strade in questa in questa topaia in questo quartiere così degradato dalla città per le vie la gente vi osserva perché nel quartiere dell'osso chiunque conosce qualsiasi cosa sui suoi residenti come se un sibilo passasse nell'aria e comunicasse da persona a persona tutti i piccoli segreti di ciò che accade nel quartiere dell'osso perfino i nativi della terra vi osservano un po' inquieti alcuni con stupore alcuni con disprezzo e poi arrivate nei grandi sterminati campi di carovane valisiane che sono stazionate nel quartiere e come i vostri fratelli vi osservano arrivare in gruppo la loro espressione diventa gioiosa come un senso di come se un senso di rivalza si palesasse sui loro volti è una gioia corrotta dalla seta di vendetta è una gioia corrotta dal canto di rivolta che alleggia nell'aria comincia a alzare la voce signori signori avvicinatevi avvicinatevi la gente letteralmente sciama attorno a te ti osservano come un profeta ti osservano come i bolshevichi osservavano Lenin nella piazza rossa solito presentano quella foto dove c'è lui che è sul suo palco tutti attorno la stessa cosa io capisco che oggi abbiate io oggi ieri abbiate osservato siete stati testimoni di grandi angherie e soprusi che qui nel quartiere delle ossa ci prendono e ci portano via ci portino via come bestie ma oggi abbiamo dimostrato come noi che in questo quartiere siamo arrivati attraversando le foreste attraversando le pianure noi possiamo essere i salvatori di questa città e quindi secondo me invece che cercare la lotta perché vincerebbero loro con le armi facciamogli vedere quello che siamo prendiamo questo posto invece che una topaia il posto più bello della città fammi una prova di promozia ma se tipo organizzassi una rivolta diraglierebbe troppo la campagna ma secondo te non direi magari la fondata e poi la liquidata non potrei ma poi obiettivamente una rivolta di varisiani di merda contro un'intera città pronta a distruggervi i varisiani saranno qualche migliaia contro le guardie quante saranno le guardie le guardie stai parlando di un popolo vichingo che è pronto ti ricordo che non ci sono guardie cittadini ma sono cittadini armati sono guardie di guardie non so quanto convendo le body anche loro ok segniamocene quando avremo l'esercito imperiale cinese a torneremo abbastanzialmente il livore della gente si 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 come 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 se le tue parole avessero scavato nel profondo nei cuori di queste persone come se effettivamente pendessero dalla tua labbra come se ti vedessero una specie di profeta ciò ciò che hai detto lo hanno preso così come verità assoluta come un esempio da seguire se se il demone dalle corna il simbolo di ciò che noi siamo il simbolo dei disadattati della società dicendo cose del genere si va sopra di noi ok quando finisco di dirgli questa cosa che dobbiamo stare calmi dobbiamo creare qualcosa invece che distruggere ascolta ascoltami vai vai quando vai si cos'è con chi stai parlando no non tu ok quando quando finisco di dire questa cosa alzo di nuovo la voce alzo il pugno ma questo non vorrà di noi dobbiamo smettere di combattere perché domani dovremo di nuovo cercare di mangiare di sopravvivere e quindi fare bella questa città questa parte di città non vorrà dire piegarsi faremo vedere loro quello che vuole dire costruire e quello che vuole dire vivere e non semplicemente come dei vagabondi senza senza meta e quindi il nostro combattimento sarà proprio questo fargli vedere che possiamo vivere e possiamo sopravvivergli senza piegare la testa e basta questa è la fine la gente intorno a te la gente aspetta abbassa il tono la gente intorno a te ti ti osserva e poi scoppia in un vuoto di esultazione come se le tue ultime parole avessero effettivamente appesentito le tue precedenti dichiarazioni come se tu avessi dato loro in ogni caso una una speranza per cui lottare e quindi a loro modo hanno sempre il hanno sempre la possibilità di riscatto sociale che tanto desiderano per un attimo percepisci questa atmosfera così densa la gente che pende dalle tue labbra e nella tua testa una piccola vocina rimbomba il potere senti fluire il potere nelle tue vene quella gioia etonistica retaggio degli oni per un attimo si impossessa di te e vuoi di più vuoi scavalcare la società vuoi ergerti sugli altri ti senti bene con te stesso per un istante e poi ritorni in te abborrendo completamente ciò che hai pensato in questo momento perché perché non sei tu o forse o forse sei Akira Aidan mentre tuo fratello parla mentre la gente esulta tu per un istante percepisci la forza vitale di queste persone le stringhe che collegano vari universi vari molti versi uno con l'altro tutte le varie possibilità che sarebbero potute accadere con una parola sbagliata da parte di Akira la guerra sarebbe potuta scoppiare la rivolta una rivolta sanguinosa con un grandissimo numero di perdite dalla parte dei più poveri i più poveri non avrebbero mai vinto non si avrebbero mai sopravvisto della guerra e tu percepisci tutto questo insieme di cose in una frazione di seconda osservando le stringhe che si muovono sopra le loro teste come se vibrassero e toccassero universi alternative tu punto focale nella storia tauno percepisci la bontà nei cuori della gente che si espande per per qualche istante riesce a percepire l'intera comunità che si che si è che vi è circondato come un unico organismo vivente che pulsa come un unico cuore che batte e questo cuore grazie alle parole di Akira si sta convertendo verso la pace verso il bene beh dopo questa cosa scendo dal 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 cano e vando direttamente da me se loro non fanno niente io tipo appena scendo gli metto la mano sulla spalla in modo abbastanza criptico e gli dico tipo hai salvato molte vite oggi fratello dovevamo farlo per forza in che io vorrei andare dentro quelle mura e fare una strage per quello che hanno fatto ad Ameiko ma non potevamo portare nessuno dentro questa vendetta e probabilmente dentro questa vendetta non ci possiamo stare nemmeno noi hai fatto la scelta più giusta hai tutto il mio appoggio grazie fratello conta molto per me e guardo Tau c'è proprio uno sguardo di soddisfazione e rispetto nei tuoi confronti il più lo sguardo più intenso che ho mai rivolto forse a noi esco tutte e due comunque cerco di radunare la gente per c'è la nostra gente per andarcene verso la nostra carovana non dico di leguarci però comunque cercare di non farci coinvolgere troppo da la gente si ho capito l'intenda prima che arriviamo alla carovana volevo sapere abbiamo ricevuto un invito ufficiale da R si ma si lui c'è anche detto tipo alle nove puntuali cioè vuole che siamo lì però mi ne sbatto il cazzo me ne vado si lo so però sarebbe sconveniente avere c'è magari l'ira del re dell'inorme quindi quindi volevo volevo sapere nelle mie conoscenze delle nobiltà considerando non so se può abbassare il tiro che avevo fatto prima ci sta un escamotage diciamo qui preoccupa politico non so come si possa definire per cui potremmo tranquillamente andarcene con una scusa no diciamo che la la legge da Kalskart un insieme di tradizioni una amalgamazione di tradizioni che lascia ben spazio lascia ben poco spazio a questo genere di formalità che intendi tu il re no ho capito quindi la parola del re è sostanzialmente legge cioè o così o così si città di merda allora una volta arrivati alla nostra carovana magari anche se Akira si apparta nel frattempo con con la scusa ad accompagnarla in tenda e dunque allora nel frattempo aspetta come voi vi tergete la carovana la folla di gente un po' si dilegua e un'altra percentuale però rimane dietro di voi vi vi segue fino alla carovana si posiziona vicino a voi si siede praticamente vicino ai vostri carri si si mettono quasi quasi a vostra protezione ma al tempo stesso quasi come dei discepoli che hanno intenzione di ascoltare la novella del maestro come se si aspettassero qualcosa da voi loro non contemplano che voi adesso vi facciate i cazzi vostri capito che intendo io comunque prima che di raggiungere la carovana mi avvicino a Tauno prima in presenza del re hai detto che i suoi uomini hanno semplicemente fatto il loro dovere lo pensi davvero ho cercato di dare una motivazione logica ad Akira per sedarlo non devi evitare che desse di matto devo essere sincero e in parte si lo penso veramente Aidan se un re ti dà un ordine lo esegui non è la stessa cosa se ti ordinasse di torturare una persona tu lo faresti ti guardo con un sguardo criptico poi faccio tipo rotiare gli occhi come per pensare la tua domanda è spinosa da una parte sarei tenuto a rispettare il volere della mia imperatrice ma dall'altra confido che avremo l'onere e l'onore di poter essere anche degli ottimi consiglieri per lei e che se le torture non debbano essere seguite su degli innocenti o su presunti tali finché c'è un ragione vuole dubbio non mi cercherei comunque di oppormi questo i monarchi non sono infallibilità per questo spero tanto che come attualmente secondo il valore di Amen che prenderà in considerazione le nostre opinioni ok alza la testa un po' timidamente ti osserva da uno come a chiederti il permesso di parlare hai finito di sbavare dietro io non capisco non importa dimmi volevo soltanto dire ciò che ha detto ciò che ha detto Aidan che l'unica soluzione in una situazione simile sarebbe il seppuco giusto maestro così ti pulisci dell'onda di non aver rispettato l'ordine del signore ma al tempo stesso non infandi il tuo il tuo onore qualora ci si trovasse in una situazione di o l'una o l'altra scelta si se il tuo signore non vuole ascoltare le ragioni allora se e solo in quel caso potrai rifiutare l'ordine e giustamente adempiere alze il fuoco forse però se se il tuo signore vuole torturare innocenti dovrebbe essere lui a morire e non te in quel caso esistono mi ricordo che il mio maestro mi ha parlato di alcuni eventi simili e però di samurai in quel caso possono deporre il loro sire ma il seppuco non è comunque evitabile la via del samurai è dura ok non è un gioco l'onore non è una moneta d'oro che puoi spendere per una puttana credo di averlo capito ma è strata uno forse non sono ancora pronto però mi piace pensare di averlo capito nel frattempo che era come stavo dicendo prima la gente vi segue ovunque vi si apposta alla carovana è come se aspettasse una parola profetica da parte vostra come se non contemplasse che voi possiate e vogliate farvi gli affermosti quindi o li liquidate o ve li sorguite tutto il tempo ma sono solo varisiani o in generale gli stranieri che sono qui? sono principalmente varisiani perché le carovane sono varisiane però in generale il popolo del quartiere del Nosso anche Ulfeni è con voi sono sono tutti dalla vostra parte perché voi siete la voce del popolo dei più temoli degli oppressi quanto manca al Vespro? all'incirca all'incirca qualche ma 10 12 ore perché siete arrivati di mattina presto ve lo portate di mattina presto là dentro quindi manca praticamente tutta la giornata ma siamo anche stati diverse ore di dentro sì sì ma infatti tipo saranno è prima mattina ecco quasi quasi seconda mattina ovvero quasi le 10 circa sì esatto io guardo Akira e Aiden non potremo mancare questa sera ma dovremo in qualche modo convincere gli altri esserci e lo dico con un tono tipo col cuore che si rompe mentre lo dico cioè immaginando quello che possono provare gli altri nel sentire questa informazione quando gliela daremo andremo soltanto noi tre non possiamo Akira ha invitato tutti noi da quello che so da queste parti non è concesso mancare alla parola del re lui ci ha comandato si è persino raccomandato di essere puntuali bisognerà vedere di convincere la gente a cui è stato non state strappate le unghie se vorrà stare ancora al cospetto di quel barbaro idiota capisco quello che intendi ma dall'altra parte c'è il rischio di essere inseguiti dalla sua ira bene quella del re non era una semplice richiesta era un ordine era chiaramente un ordine bene allora dobbiamo cominciare perché non c'è molto tempo per convincere le persone tutti coloro che sono qui che non sono dei nostri li cerchiamo di allontanare mettete in circolo i mettete in cerchio i i carri in modo che nessuno possa entrare ma volete sentite la musica no volete no non riesco non va più che cazzo non so tipo ora si ora si no senti Andrea io una volta che iniziamo a sistemare meglio i carri se la gente continua a stare lì si aspetta adesso ti dico tutto no vabbè ti dicevo semplicemente che con cortesia dichiaro che per quest'oggi cioè glielo annuncio oggi le funzioni sono sospende esatto che potessimo riposare saremo disposti a aspetta saremo disposti a non so se il caso Defano promessa ah si non c'ho è vero saremo disposti a narrare la situazione a spiegare la situazione io parlo presumendo che questi vogliano ancora sapere come abbiamo quello che bla 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 quindi appunto dichiaro saremo disposti a spiegare tutta la situazione però nell'indomani quest'oggi abbiamo bisogno di pace e tranquillità fatelo nella cortesia dei vostri fratelli varisiani che hanno subito le angherie hanno bisogno di ristoro fammi fammi diplomazia bom probabilmente ho convinto anche il re a non facciare da cena se appena diventa uno dei varisiani non capisco perché non mi va la musica mai l'attento e a me non va come si fa che noia ricarica ah beh ho ricaricato adesso va ok un attimo ragazzi perfetto allora praticamente come tu pronunci queste parole i varisiani che si che si sono accampati di fronte a voi nelle vostre vicinanze si si direguano con tra parole di alcuni da senso altri di senso però in generale in maniera piuttosto moderata se ne vanno a svolgere le loro mansioni come sempre voi rimanete soli ognuno nell'accampamento ha ripreso il proprio posto goia senza dire niente travolta da ciò che è successo è andato a chiudersi nel suo carro e gli altri in generale non se la stanno passando bene sandro ha una brutta cera uno sguardo incazzato sul volto americo si è messa a sedere di fronte al fuoco e sta cercando di accenderla vado da lei mi inginocchio davanti a lei siete tutti ne presso di americo e osservate da uno agginocchiarsi la guardo negli occhi chiaramente ho tolto vabbè ho considerato che hergerval non fosse insomma in testo la guardo negli occhi ho tipo gli occhi pieni di d'emozioni so stravolto guardandola in quelle condizioni io ti devo la mia vita lei ti osserva con con gli occhi sbarrati come se non si aspettasse una frase del genere e poi scoppia a ridere cosa ti dici Tao no? l'abbraccio senza dire altro impazzito lei l'hai colta disprovvista esita un attimo e poi ti abbraccio a sua volta ma su non c'è bisogno di far così è andato tutto bene non è colpa vostra lo sapete che non è colpa vostra non avete fatto fatto niente ci sbagliato anzi siete venuti a salvarci avete provato la nostra innocenza io io non mi sono sentita sconfortata per un attimo ho temuto che la la nostra avventura fosse terminata in questa città così buia non è così grazie a te dove è il sigillo? il il sigillo dovrebbe essere nella carovana in uno dei carri non l'ho controllato vado a cercarlo a proposito del sigillo io non so cosa sia successo però ho percepito un disallineamento delle aure questo è il termine migliore che mi viene non saprei come spiegarlo come come se vi fosse una specie di qualcosa che ha spostato il nostro legame lo ha disgiunto io lo guardo male cioè al giro lo guardo male ma non male è cattivo male severo tutti si girano verso di te a chiudere ti osservano chi è fuori ti osserva con gli occhi strassati è stata la nostra imperatrice a riportarlo in vita usando un sigillo sandro si alza in piedi ti un po' che cazzate sono fratello non sono cazzate vuoi dirmi non sono cazzate poi alzo in piedi e inizio a sganciare l'armatura a bocca aperta sandro tipo indicata uno presente con un'espressione attonita e poi si avvicina verso di te camminando è stato ucciso da un'oni l'ameico sobbalza le lacrime agli occhi e mostro i segni sulla schiena la tira non sta mentendo per questo io ti devo la mia vita mia imperatrice sorella l'ameico lei si mette la faccia tra le mani praticamente come se fosse in preda ad una crisi e poi però di colpo inaspettatamente l'alza verso di te e ti sorride e sospira l'importante l'importante è che tu sia qui con noi che tu possa camminare in mezzo ai tuoi fratelli io io non so nemmeno come ho fatto ma sono 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 così felice da uno di di aver fatto quel che ho fatto non posso pensare di perderti non posso pensare di perdere nessuno di voi e poi con un salto monta su un ceppo e riosserva le braccia tipo sui fianchi si imbalza alta se di voi io non posso pensare di perdere nessun membro di questa carovana voi tutti siete già che ho di più importante nella mia vita l'avete stravolta ribaltata completamente e ve ne sono grata ve ne sono grata perché la vita alla locanda era monotona noiosa l'avventura l'avventura mi rende viva eppure però non posso far altro che morire dentro ogni volta che ognuno di voi si ferisce in mio nome in questa folle guerra santa io devo portare un peso in immagine e vi rendo grazie grazie per tutto quello che fate per me tutto quello che fate per voi stessi per gli altri non avrei potuto desiderare un gruppo migliore del vostro per affrontare un viaggio così lungo e rischiare la vita e poi scende dal ceppo e vi vi osserva beh mia cara imperatrice è il destino che ci ha legati molto tempo prima del sigillo siamo felici di fare questo lavoro di compiere questo viaggio con te e adesso basta musi lunghi e ricordare cose oscure beviamo anche se è mattina chi se ne importa sandro tipo esulta tipo beviamo amico è che nel momento in cui abbiamo ammazzato il demone tutto con la macera lì dentro abbiamo trovato alcol sandro ti sorride mentre sta andando a prendere un parilotto di birra nel reno di un carro alcol dici fratella molto alcol molto alcol da farcisi il bagno sandro puoi chiedere se gira verso di voi scoppia a ridere apre le braccia e cosa c'è è meglio dell'alcol per affrontare un viaggio di migliaia di miglia superi il buco del culo di un paese completamente ghiacciato io do un buffetto sulla spalla la giusta compagnia la giusta compagnia tutto quello che abbiamo lutato di alcol lo tiro fuori ma non l'avete portato anche perché i barili madonna infatti vabbè avremmo portato un paio di barilotto un barilotto piccolino puoi aver portato il il vino una bottiglia di vino tipo qualche bottiglia di vino e il sake il sake sicuramente il barilotto di sake quello importato erano ah due otri ecco esatto due otri di sake importato e poi avete preso anche le sette bottiglie di vino corvo sandro avete queste qua dietro niente tiro fuori quelle si scanna quelle sandro praticamente prende una delle bottiglie di vino osserva l'etichetta che c'è ha portato sopra con un marchio no e la guarda vino corvo sano appreciato questo questo vale almeno 20 monete sonanti tendini amico mio tendini che paghi amico paga lui strabuzza gli occhi dopo tutto quello che ti ho offerto infame bastardo che non si fa tu sei il foto d'eroe del mio cazzo accidenti piega ti fa un po' bastardo c'è tutte le bottiglie di pio che ti ho pagato a set point e tu adesso mi vuoi far pagare sta merda ma io te la scuro prima ancora che tu possa prendermi soldi bastardo adesso ti ho diventato sta merda riesco a picchiarlo perché mi butto per terra a ridere perché è screlato e tipo lui si fa verso l'interno fare aggressivo e ti prende una bottiglia di mano vedi tutto con violenza poi la stappa e inizia a buttarla giù poi si asciuga la bocca e la passa in giro prendete e bevetene tutti stronzetti uno dei migliori vini no ti fai no dicevo io invece con una tra del sake ma ok tanto io il vino rosso no semmai distillati un birra Sandro ti guarda incrocia le braccia scusate abbiamo un sofisticato del cazzo ma no Sandro non lo reggo il vino lo sai ci dite di sto ma io sono vecchio lei a meiko ti guarda e scoppia a ridere da uno ma il sake è più o meno siamo lì ecco il vino cioè in quanto il sake disinfetta lei ti guarda confusa a meiko lo sai com'è fatto tutto quello che viene d'oriente per lui è sacro accidenti a lui stiamo parlando di sake importato non stiamo parlando di quella roba che come che riportava Sandro come te ci sa che hai importato Sandro sei c'era verso di te con gli occhi strabuzzati dammi quella merda devo berla adesso ne hai voglia ma non avevi il tuo super vino dovresti sapere amico mio amico mio io vivo qualsiasi cosa tu mi propini lo guardo tipo torbo come per dire come osi di sacrare così sake nel frattempo chi vuole può appartarsi con chi vuole tipo se volete parlare nello specifico con qualcuno ecco alla fine sono tutti un po' sparsi per il campo cogliene il carro a dormire non a dormire cioè è andato nel carro poi non sai ecco in ogni caso potresti andare a guardare un po' come sta apri la tenda del carro e ti trovi nuovamente in questo questo praticamente ambiente completamente saturo di teli cuscini spezie alla rinfusa libri sacri di tesna gli antine sparse un po' ovunque e tesna ecco che appoggiata ad uno dei cuscini presente sul lato del carro sta sta fumando una pipa doppia ti osserva entrare e ti sorride sembra già un po' sfatta gli occhi gli occhi socchiusi la bocca storta ti guarda ai tranne è stata un'esperienza di merda io respiro un po' i vapori della stanza anzi del carro si posso solo immaginare ti passa la pipa doppia beh sì anch'io la fumo allora aspetta lei ti osserva un attimo e poi gira lo sguardo un po' tipo collassata non non voglio mai più rivivere una cosa del genere però però l'avevo predetta sapevo che un male incombente sarebbe piombato su di noi non sapevo quando come però a tal proposito Aitan ho percepito i tuoi poteri mi hanno sovrastato sono sono ben più di quanto io posso sperarmi fare ormai stanno crescendo a un ritmo beh sorprendente in effetti alla rupe del corvo ho subito una trasformazione non so nemmeno come abbia fatto esattamente e questo è soltanto l'inizio siamo finiti in una sorta di pozza d'acqua abbiamo tutti avuto una visione ovviamente ognuno diversa e al nostro risveglio era come se avessimo tutti nuovi poteri di capacità un'altra cosa che ho notato è che adesso anche semplicemente toccando un oggetto riesco come a a percepirne il passato il futuro dovrò farci l'abitudine lei ti osserva figlio mio e la potere della divinazione in te scorra più forte di quanto i tuoi studi non ti possano concedere di fare c'è qualcosa in te nella tua anima del tuo spirito che ti lega indissorbilmente alla profezia sei forse destinato a qualcosa di grande ma del resto ciò è già stato scritto tu e i tuoi fratelli Amaeiko Akira Dao sia te i protagonisti di questa avventura noi possiamo solo assistervi dopo tutto come si può comparare una povera vecchia drogata come c'è agli eredi di una famiglia imperiale se tu non fossi non fossi stata qui io adesso certamente non lo sarei allo stesso modo se è stata tu a mostrarmi i primi incantesimi i primi modi per divinare se è stata tu a farmi conoscere Desna non dovresti cercare di sminuirti così io sono solo una petina in questa grande scacchiera divina tu sei un pezzo molto importante mentre io un pedone qualunque i pedoni possono mangiare qualunque altro pezzo ho fatto un sogno Aiden questa scacchiera non è casuale ti ho visti più o meno come come dei pezzi che che difendono l'imperatrice Maiko c'era Tauno che rivestiva il ruolo dell'elefante in altre culture la torre e c'era c'era Akira che rivestiva il ruolo del cavallo e infine c'eri tu Aiden che rivestiva il ruolo del giocatore si tu giocavi con con la scacchiera le tue abilità divinatorie ti permettevano di essersi il giocatore che le pedine al tempo stesso con questo non voglio dire che tu sia più importante nei tuoi compagni ma le tue abilità magiche rivestono un ruolo fondamentale nell'istaurazione del regno di Amerigo senza di essere tutto sarebbe perduto tu hai da me un grande potenziale lo vedo ogni giorno nelle mie ma vedo anche gli ostacoli vedo anche le strade che si interrompono bruscamente i vari fallimenti vorrei vorrei essere lasciata sola adesso devo riposarmi da tutto ciò che è successo dormi sarà sicuramente bene nel frattempo altrove nella caravana cosa sta succedendo state bevendo state bevendo in gruppo accanto al falò e praticamente si sono creati due due gruppetti Akira vicino a Dameiko da uno da uno vicino a Kay e Sandro dove Sandro sta cercando di impartire lezioni di vita al povero giovane Kay io lascio fare Sandro cioè tipo faccio la classica risata un po' così spensierata adesso non mi cerco con lo sguardo Shalelu Shalelu si trova si trova nel campo un po' fuori tipo a limitare assegnata dai carri più esterni appoggiata appoggiata al suo fianco pensierosa con lo sguardo verso un punto non preciso all'orizzonte con non Shalance mi alzo dal dal posto dove stavo lì ma lontano mi avvicinò a Shalelu e le porgo l'autre da dietro insomma tipo come faglielo vedere si che porgielo tra lei ti osserva sorride inaspettatamente non è come se fosse immersa così tanto nei suoi pensieri di non averti proprio notato e subbalza un pochino tra uno io mi sento mi sento come se non avessi come se il mio ruolo non sia più quello di una volta come se io 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 approvo approvo che voi siete in grado di gestirvi da soli anzi sono felice che sia così però in un certo senso mi vedevo sempre come il vostro angelo protettore e il fatto che i nostri compagni siano stati siano stati presi e torturati senza io senza che io abbia voluto fare niente solo perché ho voluto accompagnare gay ad osservarvi da più vicino la cosa mi distrugge non sono più credibile non posso più difendervi dai pericoli le accarezza una guancia lei si si ritrae timorosa cioè non timorosa timida così arrossisce un po' e poi ti asserva sono tanti anni che ti conosco eppure rimarrai sempre il mio ideale di eroe hai fatto nient'altro che quello che potevi fare non è colpa tua non c'eravamo nemmeno noi se qualcuno dovesse ad ogni costo tirarsi una colpa addosso quelli siamo io e i miei fratelli ma in realtà non ci sono colpe la realtà è che questo posto è corrotto e tu come noi ti hai rimossa per purificarlo niente di più niente di meno si arriva solo un ultimo passo e l'abbiamo fatto insieme insieme a loro e guardo la carovana ognuno di noi ha sofferto ma non devi cruciarli puoi distruggerti non è questo il momento di farlo lei si stringe nelle spalle solta lo sguardo altrove per non incontrare il tuo e poi e poi tipo si si immobilizza quando quando sente Akira iniziare a suonare con questa questa musica così suave e triste allo stesso modo così drammatica e poi ti osserva Tauna lei è così così bella divina le le sue forme soprattutto il viso sono perfette chiaramente è un'elfa è è la perfezione incarnata in un corpo da donna la tua definizione di di eroe ad un certo punto la la intravedi perfino come una donna mortale che tu nei tuoi recessi per modi potresti desiderare è solo un attimo una un solo un ricordo del fatto che sei anche tu un uomo ecco io la guardo intensamente faccio giusto un passo avanti per mettermi accanto a lei così non deve più girarsi guardo un pochino l'orizzonte cioè ciò che ci sta di fronte poi mi volto con sguardo serio immagino che avrei sentito quello che è successo alla rupe io ero lì con voi legata e è bello che mi è successo alla rupe lei abbassa lo sguardo sì sì ho sentito mi dispiace mi era mi metti una mano sulle spalle proprio non è questo c'è una cosa che devo dirti sciale ero perso non so nemmeno descrivere quello che ho provato e quando l'energia della luce mi è pervaso quando il drago dorato è entrato in me e mi ha concesso una seconda possibilità una parte di me se n'è andata per sempre non so come spiegarlo ma il mio primo pensiero il mio primo pensiero cosciente è andato a te per un attimo ho tenuto di non poter più incrociare il tuo sguardo lo sguardo della mia eroina della persona che stimo e ammiro più di tutte sono felice che tu fossi un po' mi fa tornare in mente i vecchi tempi quando ero io il giovane uomo che ti osservava mentre tendevi l'arco mentre seguivi le tracce mentre mi rimbeccavi perché facevo troppo rumore e facevo scappare le preme lei ti mette una mano sulla spalla e si volta verso di te e ti osserva negli occhi questa volta non ha più paura di non incontrare il tuo sguardo ti sorride Dauno tu sei cambiata tu sei cambiato un sacco da quando ci conosciamo ti ho visto che beh effettivamente ti ho visto che eri in fasce sei cresciuto sei diventato il sergente di St.Oint e adesso questo era un pollo imperiale e la mia amica Meiko una semplice taverniera avventuriera la strapassa è diventata anche lei qualcosa che nessuno si sarebbe mai sognato e e beh io riconosco che tu sia cresciuto così tanto anche nel tuo spirito e riconosco come tu ormai sia ben più abile di me forse però non con l'arco non ancora sorrido anche un po' imbarazzato regala le braccia di tracere sì un attimo le prendo le mani gliele metto vicine insomma strego i polsi poi tenendo sempre le sue mani su una sola delle mie slacce braccia e glieli porgo glieli metto in mano lei ti osserva e ti porge il braccio com'è a volere che sia tu a metterle a metterle i bracciali sui suoi sui suoi polsi così aggraziati così sensuali lei nel frattempo però ti osserva stupefatta sensuali non sessuali lei ti osserva stupefatta è un regalo bellissimo non trovo nemmeno le parole per comunicarti quanto sia quanto sia lasciamo perdere la guardo sorrido mi basta la gioia nei tuoi occhi il tuo sorriso non serve altro lei arrossisce di brutto mentre tu le attacchi le polsiere il tuo sorriso dell'amore fammi la prova di diplomazia sta a vedere il tac l'acqua è un po' 6 il seno è di aggiungi più 2 al punteggio disegnazione ci metto anche il famoso punto che ancora non avevo distribuito del libro si anche la cosa stai facendo oltre che cantare sei seduto accanto stai suonando il coto e stai cantando con la tua voce culturale così profonda il canto di gola una delle cose che ti viene meglio oltre a picchiare la gente perché forse il tuo ritaggio demoniaco rende la tua voce così possente l'improvviso cosa suoni uno scusato percussione che strumento un tamburo di qualche genere è quello che si sente sotto nella musica ogni tanto per mettermi un colpo ogni 12 secondi jimpo si alza dal suo tronchetto e si osserva annuisce verso meiko e meiko ricambia il suo sguardo lei la ragazza ti osserva la francia dei suoi capelli quella unica ciocca bianca risplende la luce del sole se la tira indietro dietro l'orecchio e ti sorride è così soave ai tuoi occhi io vorrei che tu prendessi parte al rito che si sta per compiere un rito dice linda vorrei che tutti voi prendeste parte a vostro modo sono qui prendessi vorrei che tu prendessi certo ovviamente si gira verso Aiden il programma era anche a includere includere Koya e fare un rito congiunto tra Tessna e Shilin per augurarci fortuna durante il viaggio e protezione temo che Koya sia impossibilitata attualmente ma c'è sempre Spivey? lei è una chierica addestrata? lei fuoriesce dal tutto schizzando in aria volteggiando su se stessa sì signore io in vero ho il potere di celebrare un rito non sapevo parlassi la lingua di Elgerval Elgerval mi fa un baffo quello stupido idiota Elgerval Elgerval tipo si scresce la gola il vostro tono le vostre parole non sono canzoni al vostro status piccola fratina e Spivey Spivey gli fa una linguaccia e poi tipo inizia a volteggiare volteggiare intorno a dargli fastidio e poi va a appasarsi sono dei tronchi stramazzata stanca per il volo assiduo allora aspetta io continuo a suonare in realtà ma Spivey c'è la Costituzione 1 che ogni volta che si muove poi cade a terra per 5 round allora sono una bellissima farla Spivey e per cui si stacca allora praticamente i giocchi di legno vengono spostati per lasciare spazio davanti davanti al falò il Impo inizia a a suonare uno strumento a corde lo riconoscete subito è un samisen come quello di di americo però c'è qualcosa di diverso forse è la versione di di uno stato vicino qualcosa del genere non è non è proprio un samisen è qualcosa di simile il suo il suo il suo suono il suo brano si accoda perfettamente si incastra come un pezzo del puzzle nella sinfonia che state componendo tu e americo come se vi conoscesse da sempre come se potesse percepire le vibrazioni della vostra anima della musica dell'aria percepite e capite istantaneamente che quest'uomo vecchio è ben più bravo di entrambi messi assieme probabilmente Spivey si lascia cadere a terra sulla sull'erba ancora incrostata dalla neve gelida e inizia a ballare erraticamente sotto la musica pronunciando una moltitudine di nomi delle stelle come come è solita fare Goya o meglio come era solita fare in Giaventù il ballo di Spivey è così aggraziato da farvi cadere la mascella per quanto sia un esterno minuscolo la la vedete volteggiare e vi immaginate come come sarebbe se fosse grande quanto voi come forteggerebbe naturalmente nell'aria ma cos'è che dice mentre il nome delle stelle tutte le stelle che che sono sacre nella legione di Tesla le pronuncia incelestiale la 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 sua danza si fa sempre più erratica vedete che si lascia prendere da un'estasi completa mentre in po' continua a suonare voi aumentate il ritmo vi sentite intrigati vi sentite completamente all'interno di questa armonia unica un conduto di religioni diverse che si incontrano l'arte che incontra l'arte la libertà l'amore nell'aria questi sentimenti così positivi che vi inebriano completamente che per un attimo vi fanno scordare la vostra missione vi fanno dimenticare il peso che parte sulle vostre spalle fino ad un attimo cioè in un attimo la musica si interrompe le spalle si lascia cadere a terra il vostro vi sentite completamente risollevati come se da un momento all'altro andasse tutto bene come se non vi fossero appesi sulle vostre spalle e riguardate intorno notate il benessere e gli sguardi di tutti i vostri compari ho fatto questa cosa mi alzo un po' ma lontano dalle dal gruppo diciamo ok ormai ti segue con la punta degli occhi con la cuola dell'occhio poi si alza di secretamente anche lei e ti segue la sento che mi mi si no cioè non sei particolarmente attento ma quando ti giri la vedi lì in caso oppure mi fai una parola di percezione e la senti si la sente esco dal cerchio di carri cerco un luogo appartato o semmai esco da cioè diciamo tipo qui o qualcosa del genere non ha non ci sono luoghi appartate in questa in questa in questo ghetto di parisiani persone povere per la città beh cammini tipo anche una decina di minuti ma a un certo punto ti fermo cioè tipo ti chiama con la voce Akira ma dove stai andando mi fermo la guardo sorrido e continuo a camminare lei corricchia fino a raggiungerti posso vedere ascolta il tempo è stato mandato in aria in acqua il snorri quanto dista sì due ore a cavallo troppo vabbè però si può no cioè sì sì puoi sparire due ore ma tanto dobbiamo rivederci tipo la sera è fatto ebbè affitto un cavallo soltanto e faccio salire anche a me siamo poveri o particolarmente eccitati a me ti guarda ti promette le braccia sui fianchi stiamo scherzando dai cosa vuoi che sia scoppia scoppia a ridere va bene va bene che cara uasci sei stata troppo il sandro senza la mia presenza forse forse giusto un pochino montate sul che valla lo galoppo verso la cosa dove snorri è dove è stata mandata la nave di snorri ok arrivati alla rupe arrivati alla rupe ci sono ancora le corna muse funerarie arrivati alla rupe cerco un albero qualsiasi che abbia una una corteccia che si possa staccare ok con la corteccia che stacco da un albero vado all'acqua prendo i denti che abbiamo recuperato dal corvo quelli che facevano parte di quella collezione macabra del corvo di sangue si e creo una specie di altarino metto ammucchio i denti su questa corteccia ci metto la piuma rossa la piuma di sangue sopra e poi li lascio andare sull'acqua ok come a dare una delle soppoltura alla gente che è stata uccisa da questo coso visto che non so dove siano ancora i cadaveri si vabbè Ico nel frattempo ti osserva in silenzio rispettosamente non aggiunge niente alla fine del rito continuo ad osservarti con un'aria enigmatica va tutto bene Akira ci sono persone che vengono dimenticate nel nostro camminare furiosamente su questa terra persone che vengono dimenticate nel sangue che sono semplicemente numeri che ci si presentano davanti numeri su numeri che ci si attaccano e noi che riattacchiamo e che sopravviviamo e tutte queste persone vengono lasciate alla dimenticanza all'oblio della memoria e nessuno più parla di loro e la loro storia si interrompe abbiamo trovato questi questa collezione potevo semplicemente lasciarla lì nel nel nido in cui l'ho trovata e beh di cose orribili ne abbiamo viste questa sarebbe stata soltanto una delle tante cose orribili avevo intenzione di portarle qui e dare la secoltura che il popolo di queste lande dà ai propri cari in modo che magari gli spiriti possano trovare la pace sei sei proprio uno stupido aspetta aspetta ti spiego il gesto che che hai fatto la tua sensibilità Akira è strabiliante io ti ammiro tantissimo per questa tua qualità e ti ho detto che sei stupido perché perché da quando ti conosco qualche mese fa soprattutto quando il nostro rapporto ha iniziato a espandersi a diventare più più maturo più fit continuavi a ripetere che sei un mostro e che non meriti affetto che non meriti l'amore degli altri che ci raccontano ma sono cazzate Akira è ancora vero quello che la maggior parte è ancora così sai no non è vero non è così non hai visto quelle persone che pendevano dalle tue labbra la tua pelle rossa le tue corna enormi eppure eppure loro erano stregati dalle tue parole erano erano affascinati dalla tua personalità e non da ciò da come appari e la stessa cosa vale per tutta la carovana Akira per me in particolare e che si avvicina a te sei importante lungo le mani sulla vita in ogni caso perché ovviamente Akira che si trattiene più di tanto lei lei ti potistò io lo sguardo e cerca di scostarsi un attimo ma poi ci ripensa Akira io non sono pronta adesso non non posso affrontare una relazione adesso lo so lo so cosa vuoi ma non lascia passare un po' di tempo Akira non è quello che voglio non è non è desidero semplicemente un nuovo trasturlo quindi prenditi tutto il tempo che vuoi non è un problema lei alza la scorta dimmi portata qui per per chissà quale altro la lascia e le accarezzo il viso con un dito con il dorso di un dito che rispetto alla sua faccia è tipo enorme però con una delicatezza che raramente si vede soprattutto nei gesti che fa di solito violento come volevo che fossi anzi ero stupito che mi avessi seguito e adesso che sei qui volevo condividere con te questa cosa sono contento di averti seguito Akira questo è solo un altro pezzo della tua personalità così benevola così gentile il tuo animo non è non è corrotto Akira il demone è tu no lo hai distrutto lo hai già distrutto no caro amico non è distrutto è sotto la superficie e in realtà non è che lo casto cioè non è che lo faccio apposta è come se venisse fuori da solo alter self e si trasforma il demone è dentro di me sempre e spinge per fine lei fa qualche passo indietro come se tutta l'atmosfera che c'era fino a quel momento fosse spezzata fino fosse spezzata completamente irreparabilmente ti osserva quasi disgustata va bene va bene adesso puoi puoi tornare in ginocchio tiro un pugno per terra e cerco di proiettare le anime che sono contenute le essenze delle armi che sono contenute nel rosario per farle vedere quello che c'è dentro di me l'essenza dell'oni delle cinque tempeste l'essenza di kikono tutte quelle che ho dentro e voglio proprio fargli rivedere tutto il fuoco del rollo del loto nero fammi una prova di volontà praticamente ti butti a terra con un pugno più fiorentemente di quanto avresti voluto crei un solco nel terreno senti la perfezione interiore allinearsi come se finalmente finalmente tu avessi raggiunto uno stato di coscienza superiore il demone interiore si affievolisce affievolisce fino a quando fino a quando questa giuntura che ti lega a lui si spezza completamente e il demone fuoriesce di getto visualmente proprio c'è dalla tua bocca ti alzi verso il cielo e fuoriesce questo demone enorme è un'oni che ti sovrasta a suo fianco appaiono chi cono e chi mandazzo appare il fantasma di trauno ti senti completamente sopraffatto non è quello che volevi non è ciò che volevi fare tu volevi mostrare il tuo demone non volevi liberarlo stai la tua mente è un turpinio di pensieri come delle spiegazioni che sono completamente razionali si palesano nella tua mente pensi che i demoni adesso si riversino nel mondo pensi che ti lasciano ad un coscio vuoto si ammazza per terra chiamego raffa tappensi un istante di fronte a questa pazzia che tu hai voluto compiere la tua perfezione interiore il tuo chi il tuo bilanciamento la tua ancora di salvezza si è spezzata per un istante perché tu troppo sicuro della tua forza interiore ti sei lasciato prendere alla mano da qualcosa che ancora non controllavi completamente suo akira non è ancora l'equilibrio interiore non completamente i demoni si riversano nell'aria sopra di te giureresti di vedere il cielo anneppiarsi scurirsi i demoni forti come sopra di te in un turpinio assordante a me così da palorecchie cade a terra ti implora di farlo smettere ti chiede perché stai facendo una cosa simile fammi una prova di volontà è più forte di te non riesci a fermare il demone che si riversa nell'aria ti senti drenato nel profondo da da questa ortalea sono quattro danni alla costituzione temporanei chiaramente i demoni continuano a forticare nell'aria ameiko viene spazzata via va a sbattere contro un albero di fronte a te vedi che perde i sensi e tu ti infuri ancora di più con i tuoi demoni interiori fanno un altro mano di volontà non riesci a fermarlo è più forte di te sono tre danni alla forza praticamente ti cerchi di alzarti sulle gambe adesso eri sempre piccato per terra col pugno sempre infilato nel buco ti alzi sulle gambe fammi una prova di volontà voi dovete tornare in trappola vi derrò fermi siete miei ti alzi in piede praticamente con tutta la tua possenza scagliata verso il cielo descrivimi apro la mano verso i demoni per tirarli verso di me e di fatto li ho lasciati uscire apposta li ho lasciati andare per vedere quanto io possa riuscire a trattenerli allungo la mano prendo il primo come se non cercassi di afferrarlo e lo infilo nella collana nella prima perla e poi prendo il secondo e faccio la stessa cosa come se rimettessi dei libri dei libri apposto come se in quel momento di chiarezza in cui li ho lasciati andare potessi finalmente percepire me stesso percepire un chi che non ero mai stato in grado di vedere in modo da separarli nettamente dalla mia anima e metterli al loro posto era una cosa che dovevo fare prima o poi dentro di te Akira senti questo divario netto che si va a creare nella tua stessa anima la la parte buona ciò che che ti caratterizza il vero Akira è stato completamente reciso dal demone che vive dentro dentro di te come se fosse stato accantonato assieme alle altre anime senti improvvisamente una pace interiore che ti avvolge completamente ti senti libero finalmente estasiato da ciò che sta succedendo ma senti il demone che bussa alla porta nella tua anima e ti viene ti palena nella mente un pensiero deprimente le altre anime che assorbirai non faranno altro che rinforzare questa unica anima malevola che si è pronta a creare nel tuo spirito e quest'anima batterà sempre più forte alla tua porta fino a distruggerla quindi Akira tieniti pronto dopo aver questa consapevolezza ma questa anche nuova pace scusami è questo che ti dicevo a me si riprende scioccata dall'accaduto e ti ti guarda con un spacciglio inmarcato scusami mi hai quasi spezzato la spina dorsale sull'idiota però è stato però è stato il funerale toccante lei si mette si si ti solleva si 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 prende cioè era stragliata si si alza si mette a sedere con la schiena attaccata all'albero e lascia andare un sosperi sul cielo vuoi dire il mio funerale perché ci è mancato poco e comunque è rovinata completamente l'atmosfera che atmosfera per acciarci lei tipo muove fino la testa distoglie lo sguardo e rossisce ma certo che no evitavo di lasciare andare i miei demoni interiori sai di solito non è una cosa che si fa così alla legge senza divertire perlomeno akira ma che serve con te tanto lo so come sei fatto non tutto già oggi ho assistito a una cosa alquanto bizzarra no intendevo qualcosa di molto più mondano amico si sospira attento attento macchina che se liberi quello poi altro che te ritardecco tu volontà è deciso di fare salvezza gt35 tornate al campo e sono passate diverse ore beh ma allora visto che abbiamo tutti quanti delle ore libere io vado a fare gli acquisti che mi servono si puoi farlo puoi farlo nel frattempo compro anche compro anche ah tipo prima tipo di andare con coia a vedere come stai tutto almeno ce ne andiamo io e tavolo da soli e poi volevo comprare tipo una una cartina della terra dell'innorn bella pregiata per coia ok e poi volevo tipo portare il kimono insomma la giacca da un sarto e far tipo foderare la tasca in modo che sia bella comoda e calda ok che romantico ma tu Akira non regali niente no vabbè troppi regali troppi regali i regali sono saturati beh ormai è abituato a due regali appunto non vorrei che l'adessere scontato comunque non farli mai e poi bam comunque fammi la prova di diplomazia con me ho 18 perché basta che non siamo quelli che hai fatto non intimidire ci starebbe anche intimidire infatti dai dai no perché intimidire intimidire peggiora il 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 punteggio vado Andrea come sei un nazista nelle regole 25 si rientra vabbè quindi prendo due punti più uno del livello si in totale più due 15 madonna ma io pensavo tu ci avessi molto di più con Amaco ehi che cazzo ma immagina punti io c'ho 18 con come fai che aveva 18 18 c'ho 18 con il scialelu come fai avere 18 c'ho anche carisma allora se ah ma tutti abbiamo il carisma si però io ho aggiunto 15 fino adesso ci ho aggiunto tre punti adesso i due del coso e uno vabbè io già c'avevo 15 facciamo tutti il shop al the shop che abbiamo fatto noi devi farlo esatto esatto arriva la sera mentre mentre loro non c'erano io intanto potrei aver anticipato agli altri cioè dopo lo shop della cena che altra non è ancora tornata mandamole un animale messaggero eh sì perché effettivamente boh rintracciata l'ha chiamata tra l'altro un grosso falco che è da Yut c'è l'interessano tra l'altro Ulf e Ulf e Uxacca non sono con voi chiaramente cioè sono comunque in realtà in po' in po' vi vi dice che la potete trovare matematicamente a bene nel quartiere del fuoco quindi la potete trovare là e magari vi porterà da Ulf insomma tanto avete un patto in ogni caso non è che sono scappati semplicemente che siete stati arrestati lui no vabbè dai ci mancava pure che arrestavano di nuovo ma lei non era con voi no dico Ulf però ah ah sì beh se volete invitare Kelta alla cena del re no lei però non faceva parte del gruppo ma a parte quello cioè non è un onore andare alla cena del re beh per lei sì vabbè per noi no cazzo se è un onore per lei secondo me ci rimarrebbe una sola in vita eh infatti ci stavo anche ci potremmo anche pensare più che altro magari ne ho discusso con Aidan mentre stavamo lì a fa spese basandoci sulle conoscenze chiaramente nobiliare cioè sarebbe così scortese se lei è del nostro gruppo no non è scortese allora io dico che per me non dovrebbe venire io l'avrei fatta venire soltanto se fosse stato scortese almeno in parte ma no seriamente lo dico eh lo so ma infatti è che la mia reazione è come tau la stessa cosa stai dicendo Aidan sei forse delirando cosa ti hai fatto amare con la vecchiazza e tu ti sei forse dimenticato che è tipo il nostro nuovo nemico primario esclusi Ioni forse cioè sto tipo ha torturato tutta la carovana e adesso facciamo un onore portando ospiti in più ricordati che siamo costretti ad andarci stasera sì siamo anche costretti però è una questione un po' diversa perché secondo me dovremmo informarla tutto qui sarà lei a decidere lo facciamo per lei non per il re tanto non penso che ce la farà comunque a tornare per sera ma che alta mi fa casca ah ok sì 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 un attimo confuso possiamo anche raggiungerla nel pomeriggio cioè vado direttamente io a quel punto mentre lui se faricucilla la visione non può andare in giro vai tu che alta vive nel quartiere delle ossa ma tu guarda che culo no vabbè io ci ho provato che alta c'è la casa che sta facendo secondo me la vive nel quartiere di pietra ma non nel quartiere delle corna ce la facevo vabbè la la vado ad invitare così devi scopare tutta tutta a te non hai capito harem harem tu arrivi a se provi di agglielo no ragazzi però non è giusto che ve la prendete con me non lo faccio mai che alta vi aveva lasciato diciamo l'indirizzo di casa nel caso ho bisogno di essere ripetita e quando arrivi trovi questa bello standard di kalsgard sontuosa sontuosa casalunga ad attenderti fino a scoprire che la famiglia di di kilda fa parte di di alcune tra le famiglie più antiche di kalsgard che tra l'altro narrano leggende e saghe e storie epiche del loro popolo in pratica è una famiglia di scaldi beh penso proprio che se non l'avessi invitata me l'avrebbe rinfacciato per sempre tipo si cioè tipo me l'ascordo per sempre mi ridà anche l'armatura indietro mi dice in dieci minuti ho perso con te vaffanculo su tutte le piastre esatto cioè mi presento lì sì beh senza senza farla troppo lunga la famiglia di kilda ti appare tutto sommato tra virgolette sofisticata per gli standard del loro popolo e kilda stessa è in famiglia più sommessa di quanto non lo sia con voi ecco sottomessa sommessa insomma si comporta più docilmente e beh chiaramente non è che può fare la puttana beh però me lo aspettavo comunque tipo sempre un po' cazzona beh oddio non è che può fare la cazzona col padre cioè tipo di più una cangata ma coi fratelli sì magari sì ok però in una situazione le porgo l'invito davanti chiaramente d'acchi d'acchi i suoi genitori sono sono estrefatti stupiti da stupiti è un eufumismo in realtà da ciò che è appena annunciato davanti a loro che è chiaramente accettato buonissimo grado l'invito la famiglia la incita a portare alto il nome della della casa sgozza polli e a portare in grembo un figlio da te molto probabilmente sì beh in realtà ti fanno anche domande molto esplicite su sull'argomento come se sei interessato a loro figlia se la vuoi sposare o cose di questo genere sei già appucciato scusa ma tu il cazzo ce l'hai già messo ma vede sa io ecco veramente credo che sia un po' tardi ah sì c'è Adi anche mi aspettare devo passare a prenderlo con il cavallo mi parte la carolina è un casino ma io colloquio in modo molto sobrio nel senso con non delicatezza però con con gentilezza svio le risposte cioè nel senso tenendo un po' d'educazione sì sì chiaramente beh tu a che alta vedi le guada le faccio portavio anche tutta la roba in via non tornò mai più ma quant'è che sei restato a Kalskart? una settimana? e anche di più sì forse di più anche due secondo me sì in realtà tipo ti osservo sembra sembra contenta di rivederti sono passato in fretta queste due settimane ne sono successe di cose in queste due settimane ah sì ci sarà modo di raccontarmi tutto al banchetto di stasera di fronte alla lei in persona non siamo più a casa sua giusto? no beh una vorrei solo dirti una cosa non per quanto posso capire che per te sia una notizia fantastica non non mostrare tutto questo entusiasmo a Kalskart in realtà sono successe veramente troppe cose in queste due settimane e non credo che per tutti sarà un piacere essere invitati a questo in realtà ti spinge un po' con le braccia ti guarda con uno sguardo severo un antire stupidacce in età o no? il re è una figura che ogni bambino di Kalskart sogna di incontrare ed è per questo che abbiamo considerato che arrivi dovutamente invitata non ti avrei non ti avremmo dico non ti avremmo non faccio non ti avremmo mai negato questa opportunità ma devi sapere che per varie ed eventuali questioni di cui potremmo tranquillamente discutere tardi i nostri compagni sono stati tenuti prigionieri per più giorni e torturati dai suoi del tuo re lei la sua espressione si era bullolata ma continua a camminare come se nulla fosse però immagino ci fosse una buona ragione storco un po' il naso ciò non ti meno mi dispiace annuisco c'era una ragione sebbene la tortura non la tortura di innocenti non rientri in azioni che tendo a dare per governare con giustizia il re è un uomo d'onore se vi ha fatto un torto del genere sicuramente saprà come ripagarvi dopo tutto il banchettorista si era immagino che sia correlato in qualche modo sì credo di sì forse sono le sue scuse formali fronte a voi basta parlare di di queste cose no no nel frattempo sono anche morto e risorto parleremo più avanti di ciò che sono successo in queste settimane anch'io ho molte cose da raccontare andiamo a farci un po' guarda di fare poco lo stronzo tra che dici perché mi sto impegnando per fare questo viaggio a voi con la vostra caravana la guardo con fare sornione me l'hai chiesto gentilmente appunto con fare sornione la guardo impegnando in che senso che andrà impegnando in che senso non lo so in che senso impegnando parole che lasciano il tempo che occupano mi pareva fosse parole che lasciamo perdere ovvio eh beh sì sono male ogni popolo ha i suoi detti immagina beh in ogni caso discutendo di cazzo le varie vi propi insomma ritornate al campo nel quartiere d'osso e vi preparate per andare al banchetto vi vestite con i migliori vestiti che avete ritirate di tutto appunto la ma ecco la lucido cioè la la metto a posto la la pulisco dal sangue e tal quant'altro ma sto in arbatolo io vorrei mettere il kimono fa frettino con il kimono va bene ciao non prendosi all'aperto mi compro un invernale con una moneta d'oro al quartiere di a proposito ma tutte quelle puttanate che avete trovato tipo gli oggetti orientali li avete venduti tipo i fari si lo prendi tutto ok ricordate che ad ameco piacciono anche gli oggetti d'arte del genere magari però c'è sempre la gerbottana di ciata si ma tanto è lui che deve aumentare i punti non io ma in ogni caso anche ameco si veste con un kimono è un kimono bellissimo si vede che è stato fatto con cura da artigiani che sapevano quel che facevano se chiedete da dove proviene il kimono lei vi risponde che che apparteneva alla sua famiglia da tanto tempo da generazione in generazione e adesso si spiega perché era così bello effettivamente era letteralmente il kimono di un'imperatrice quindi si veste proprio nella maniera tradizionale in kajana si trucca perfino il viso di bianco si racchiude i capelli sulla testa si mette il fioc sulla pancia gigante per il kimono per chiuderla allo stesso tempo shalelu si veste in maniera piuttosto lasciva come gli abiti tradizionali degli elfi in po' con le perseguazioni del genere si è proprio è come se le sue parti non proprio di fuori però si vede un sacco da spaccatura letteralmente più spaccato di così sarebbero di fuori le dette è un abito che è composto da una specie di top superiore fatto di sfogliano vario inciso intricato è una gonna che scende fino alla caviglia però ha uno spacco sulla coscia destra a lei non dici che fa freddino? e tra l'altro no e tra l'altro è scalza in testa porta una specie di coroncina di di femmini sandru dal canto suo invece si veste come il peggio zincaro paresiano perché il peggio zincaro paresiano però tipo comunque con abiti di di seda appreggiata insomma appare come uno zincaro ma uno zincaro elegante Koya Koya fa la stessa cosa di sandru praticamente i paresiani i puri non si spentiscono mai lo devo fare seguire la tradizione o il futuro beh tu sei un po' un misto e comunque beh decidi tu tu Akira Akira sta in armatura ma io sto in armatura ma tutto hai da un polendo no vabbè si ok di decanto suo Keldra si veste come una vichinga tradizionale di Kalskart con un elmo con le corna che vi ricordo si può indossare solo durante i periodi festivi un'armatura addosso la sua lucidata e la spada nel fodero ci siamo dimenticati del secondo scudiero di Tauno ok Valtus Valtus è vero beh Valtus c'è sempre si si e che sa di mi hanno fatto l'abbiamo portato via no dico l'hanno mi hanno torturato perchè avevano pena anche loro beh Valtus si veste come si può vestire elegantemente un Hobbit insomma capito io sento che arrivano gli avvocati eh e poi c'è Kay che o chi comprate qualcosa o ce lo si straccina addosso no vabbè la moneta d'oro si spende per lui si anche meno quanto costeranno dei vestiti da minoporaccio beh guarda Andy lo prendo giusto per l'occasione 67.000 monete eh anche lui si veste come un kimono siete un'amalgamazione di mincaiani varisiani e e ulfeni ulfeni anche in po si mette un kimono in realtà il suo non è proprio un kimono è un abito simile però il nostro modo è diverso quello da bonzo è tipo l'abito da mandarino funzionario cinese no l'abito da funzionario cinese no prima cos'hai detto un abito da mandarino mandarino da mandrillo siete pronte e vi ti reggete verso la fortezza il vostro bene amatore bello scegliere abito da mandarino escono fuori gli abiti arancioni allora come come vi presentate i portoni della fortezza esterna venite fatti entrare all'interno siete subito riconosciuti dai guardie e nella grande sala del trono sono stati adibiti tantissimi tavoli in fila vicino alle colonne vi è già un sacco di gente che sta prendendo posto praticamente di fronte al trono vedete che c'è un tavolo ben più grande degli altri il legno scuro di quercia probabilmente una quercia che cresce da queste parti secolare è un tavolo un tavolo così grande maestoso su cui siede davanti dietro il il monarca Svein la sala ad un tratto vi pare molto più accogliente di quanto non fosse la mattina dello stesso giorno tutti l'aria di festa i tavoli banditi le cornee varie tutti gli arazzi questa volta scarcianti che dando verso l'alto della sala sono uno spettacolo unico per gli occhi e dovete ammettere per quanto ha malo il cuore che è effettivamente un bello scenario vi venite ascoltati verso il re da alcune guardie che poi si dileguono il re vi saluta formalmente e vi introduce a diversi diversi uomini dell'alta società vichinga Jarl del re che governano le terre limitrofi a Kalskart sono giunti fin qua e perfino perfino il le organizzazioni mercantili di Kalskart vi introduce al gruppo delle sette terre un consorzio che gestisce praticamente buona parte dei commerci tra i sette regni nelle terre delle lì inorma insomma vi sono un sacco di personalità importante come introdotti e potete fare conversazione insomma potete girare ma tengo abbastanza sulle mie verifico che il gruppo sia abbastanza a suo agio uguale cioè in realtà cerco di farla passare il prima possibile sì il gruppo di canto suo è particolarmente risentito come giusto che sia non si tengono a misparte e cercano per quel che possono di tra virgolette boicottare la la festa cioè tipo Sandro fa un po' il cazzone con con gli Jarl con le donne degli Jarl e tipo se non gli dite qualcosa gli sbagliano la testa probabilmente da un momento all'altro io volevo tipo fare una cosa magari insieme a Kelda cerca di convincere quelli che sono un po' no austeri però come Sandro no dei capi che potrebbero volendo vedere la cosa come un un tentativo almeno di scusarsi da parte dello Jarl quantomeno per non rischiare di vivere di nuovo già vissuto facendo letteralmente i coglioni si fammi diplomazia e muti beh acconsentono la tua richiesta si rendono conto di fare troppe coglioni cazzoni e si danno una regolata durante tutto il manchetto non disturbano più praticamente di canto vostro tenete un po' in disparte ma comunque gli ammiratori tra gli chiari i guerrieri che sono stati invitati ma perfino tra i rappresentanti delle cilde mercantiche si chiamano verso di voi a farvi domande a chiedervi di tutta di più come avete spodestato la cilde di prima su come vi siete introdotti nella rocca domande di questo genere e sono tutti sempre sempre abbiccicati a voi cercando di estrapolare almeno un pezzo di informazione per narrarlo magari ai loro figli io c'ero quando i corrieri di Brina sono caduti e fatemi una prova di percezione non è arrivata aspetta le tira addirittura comunque ho fatto curare i danni alle caratteristiche una volta che sono da Kygo di musica ok Loren la festa inizia formalmente la musica parte le cornamuse i flauti i tamburi risuonano in sottofondo e una sciocola di spicco che dirige tutta questa massa di persone di suonatori di cantori una bella donna assassinante bionta che sembra sapere il fatto suo fatemi locali quella cosa che non ho quella cosa che devi mettere non l'hai messa poi alla fine stupido stupido negro ok Aidan la donna in questione non ha nient'altro che dirige l'alto scaldo di Kalasgard la carica più importante nel consiglio degli scaldi di Kalasgard che un uomo può cercare può sperare di ottenere e anche una donna chiaramente lei soprattutto è tra gli scaldi più acclamati in tutte le terre dell'Indorm è quasi una leggenda vivente un po' di impressioni a vedere lì in Cardos l'avevi sentito parlare nel corso del tuo viaggio ma l'avevi letto anche nei libri di storia quanti anni è? è piuttosto giovane in realtà questo ti fa capire ti fa capire che se una donna del genere della sua età si trova già nel libro di storia significa che beh i libri li ha scritti un divinatore vabbè libri di storia possono essere anche storie di che ne so dieci anni fa nel senso storia contemporanea esisteva anche nel medioevo per esempio sì ma sti cavoli destabici sono la nostra anche imperatrice cioè la meiko chi è che suona questa stronza la meiko inizia a ridere ma no non ho certo l'artire di competere con l'alto scanto di chaos solo di siangane koto io ci sto se tu ci stai non ho portato il koto non ho portato il samisen il siangam è un pugnale il siangam è un pugnale ok era un messaggio in codice così che town estrasse il siangam carica che cazzo comunque dopo poco praticamente inizia inizia il banchetto vero e proprio prendete posto al vostro tavolo e iniziano le festività è un banchetto amichevole dove tutti i nobili gli armaggiano e si strafognano la bocca di qualsiasi cosa trovano sotto mano non è per niente raffinato mangino con le mani si ingozzano fanno agari di rotti chi beve di più è più figo e tra l'altro aprono queste gare anche a voi se volete partecipare ci sono gare di bevuta e gare di braccio di ferro per stabilire il più forte della sala devo fare la prova di braccio di ferro sì io di bevuta ma che cazzo fai ciao io devo ti vado a fare braccio di ferro per me non è ma una dignitosa protesta con i confronti del re che ha torturato la tua famiglia non lo so no ma non farla bene di fianco a lui ma no contro di lui ah contro di lui io voglio battere il re a bevute e il aspetta ok allora allora intanto Akira ti approcci a questo gruppetto che fa che organizza la gara di braccio di ferro e viene iscritto al torneo mi sono tipo tra tutto 50 sfidanti madonna un sacco di gente quanto hai a forza prima delle finali viene da me gli faccio bull strength a questo gruppo che ho già nessuna purtroppo ho già la cintura quindi non funziona eh beh ti emette comunque di più due in realtà ah sì è vero perché la cintura è più eh allora Akira fa un montello di forza bene non più cinque fammi altri due tiri di forza ok allora devi bere l'alcol aumenta la forza perfetto ti fai la tua strada attraverso vari sfidanti chiunque provi a sovrastare il demone rosso così ti hanno rinominato i vari commensali i vari gli arla che ti stanno cercando di battere viene struncato all'istante il demone rosso non può essere battuto vedi praticamente la differenza della mole del tuo braccio enorme contro quella degli altri ad alcuni degli avversari più deboli hai proprio spaccato il braccio cioè l'hai proprio stroncato capito cioè arrivi dopo qualche ora tra birre pinte salumi carne seccata pesce fresco carne arrosto insomma portate varie di cibo e di alcol potrebbe essere discretamente 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 ubriaco beh no dai no ubriaco no ubriaco brillo diciamo cioè sei allegro discretamente allegro e e fai da da idan per farti castare no forza del dora ok ok allora niente è arrivato alle semifinale ti si parla davanti nient'altro che aspetta nient'altro che Askel Glumson una delle personalità di spicco della società della società di Kalskart è uno Jarl delle terre limitrofe ha dei muscoli che fanno paura per essere per appartenere ad un essere umano si intende ti osserva e sputa sul cavolo prende un boccale un corno e lo scola in due secondi poi ti rotta in faccia e ti sorride forza demon rosso fammi vedere quel che sei fare mette il braccio sul tavolo e iniziate praticamente accanto a voi si è creata una folla di persone che vi sto osservando gran parte dell'attenzione è rivestita su di voi il re se la se la sta ridendo dall'alto del suo scrango mentre sorseggia birra e vi osserva fammi una prova di forza fammi le tre scusami decendi non con poca fatica la battaglia è dura ma riesce a sovrastare il tuo avversario hai qualche minuto per riprenderti ma del prossimo scontro voi che fate voi dopo passiamo a voi quel che avete fatto prima ma adesso in questo frangente in cui Akira sta sta combattendo ed è arrivato in finale tutti sono acclomerati su di lui cosa fate? Fireball no in realtà do un'occhiata alla competizione in questo momento si anch'io sono concentrato a fare il tifo per Akira sono tipo i cosini di come cazzo si chiamano? di ventaglie lo sbatto non faccio casino però faccio il tifo per Akira Ameiko beh perfetta Ameiko palesemente ubriaca si sta stravaccando sopra Sandro mentre ti guarda Akira e ti sta incitando forza Akira falle vedere questi stupidi cittadini onesti di che cazzo come se si fosse fermata tipo dal dire una cosa che sarebbe costata gara e di fronte a te ti si para il capitano delle guardie del re ti osserva e ti sorride staticamente poi si mette a sedere che gioia vederti vediamo un po' se riuscirò a buttarti giù come ho fatto stamattina te l'ho lasciato fare caro lo vedremo vai prova di forza ma è una prova per caso di grapple no è solo forza perché non sono permesse le le mosse diciamo col polso cioè mettete le braccia praticamente incrociate e iniziate a tirare sulle prime sembra quasi sembra quasi che il tuo muscolo esploda con una potenza soverchiante ma poi ti rendi conto che il tuo avversario sta solo facendo il tuo gioco ti sta lasciando stancare nelle prime fasi e prima che tu te ne renda conto o meglio te ne rendi conto troppo tardi ti soverchia completamente la presa e in un secondo ti butta a terra il braccio che peccato lui sorride con fare melliflu e tutti tutti gli arli tutte le nobili donne scoppiano in un boato di insultazioni il re stesso applaude e annisce con la testa molto soddisfatto il risultato il capitano delle guardie che si trovava completamente a petto nudo il fisico scolpito negli dettagli tipo contrai il bicipite e te lo mostra con fierezza beh signore cosa c'è da dire ho battuto un demone ne hai battuto a metà voglio vedere l'altra metà rifacciamo tutti tipo lo vincitano non tirassi dietro dalla rivincita e quindi è costretto ad accettare vai con l'altro liberali tutti con l'altro braccio allora ok lo so che l'ho usato per gdr il cosa stamattina il l'alter self posso usarlo di nuovo è eccessivo secondo te lo so potrebbe risultare in un una reazione a quanto potrebbe risultare una reazione potrebbe risultare in una situazione abbastanza delicata se questi vedono ok è esatto quindi cioè non lo farei a prescindere dagli usi comunque quando si sta avvicinando appena prendiamo le mani così invece che essere tutto sorridente e simpaticone lo guardo in modo molto intenso e metto un ringhio feroce verso di lui fa intimidire direi che l'ho intimidito lui tipo si fa si fa un attimo indietro oh oh calma calma lupetto lei dopo comincia a spingere c'ha meno di me adesso è shaken si no porca troia che palle è passato un minuto e siete ancora a pari fatemi altri tre tiri vabbè vaffanculo dai di merda di sto gioco veramente un altro tiro ah no era quello ah no vabbè no niente 9 7 ok la battaglia va avanti passo un altro minuto e poi siete ancora lì quel sudore che mi cola dalla testa fammi altri tre tiri l'ottimisco di nuovo ah no per 24 ore non posso più eh si ok finalmente riesci ad averla mai su di lui eh lo lo atterre lui sconsolato ti guarda con uno sguardo diplomatico e sicurare le spalle beh uno pari direi uno pari vogliamo finirla così perché non la finiamo come si confà i guerrieri invece che cercare di invece che fare lui lo faccio solo per il re e cerco di incitare la folla per per la sfida fammi diplomazia nel frattempo voi cosa state cosa stavate facendo prima cioè anche da considerare che è stato lì tipo due ore a a mangiare e bere con i suoi amici sono i miei amici lo bevuto l'ho detto orteci però se mi invitano a una le bevute ok allora normalmente rimango un po' con il gruppo poi cerco due ore con tante quindi comunque sia faccio un po' di giri magari provo a entrare un po' di conversazioni fra quelli che non so a caso entro in un po' di conversazioni ok cercando magari di far deragliare la conversazione sulla situazione degli abitanti provvisori del quartiere delle orte quello ci parliamo ci pensiamo dopo adesso facciamo prima la gara di bevute di town si si allora non tanto vado giù presto non vi preoccupate la gara di bevute praticamente si sono creati due tavoli dove su uno si sta a fare braccio di ferro e sull'altra invece questa gara di bevute sono due enormi tavolati che vanno da colonna a colonna e ci sono decine e decine di persone tutte aclomerate su uno di essi il cibo imperverso incombe su questi tavoli enormi oltre all'alcol alle carte del gioco dadi l'atmosfera a vostro malincuore molto piacevole per quanto il re sia stato un bastardo nei vostri confronti nei confronti dei vostri amici riconoscete che questa gente ci sa fare con le feste tauno inizi a bere si parte si parte da una bevante leggera una birra fammi fortitude uno schiantato uno ok aspetta quanti costi quanta costituzione hai meno quattordici quattordici ok fammi un altro tiro di allora la prima birra chiaramente la butti giù senza problemi la seconda a distanza di pochi pochi secondi praticamente pochi minuti in realtà è quel tiro lì e la butti giù senza problemi fammi un altro tiro di poi io l'archetipo i tuoi i tuoi amici sono passati a a portare sulla tavola alcolici più pesanti spiriti distillati con grande impressione di molte con te nel reggere senza problemi ormai è passata l'ora fammi un altro tiro di fortitude allora hai più due più due a tutte le stats fisiche bonus morale di più due a tutte le stats fisiche inizia a sentirti un po' inebriato dall'alcol no non hai meno quattro le altre anche a destrezza ha un bonus si wow devo fare un altro tiro non ho capito si fai altri tiri un altro ti portano un altro spirito questa volta questo spirito qua ha un sapore danice continui a bere molti dei tuoi nemici nella competizione sono già stati buttati a terra accanto a te vi sono urla grida di soddisfazione gente che si ribalta i tavoli nelle serie mentre ti vede bere così tanto questo sbarbatello del sud così ti chiamano che sta battendo e loro compari è una situazione assai esilarante il re sembra divertirsi mentre osserva passa con lo sguardo dal dall'incontro di braccio di ferro alle tue bevute Sandro ti sta incitando tipo ti sta battendo sul tavolo dai cazzo bevi 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 nel frattempo bere anche lui è sempre in gara anche lui è in gara si è in gara anche Sandro Gelda Gelda era in gara ma è tipo collassata altri alla venuta scorsa sta vomitando per terra sta rilasciando tutto tutto quel che ha mangiato per terra fammi un altro tiro di di qualcosa se vuoi se vuoi dire qualcosa ma no io in realtà sto proprio tipo con la faccia da ebete sornine e carino è più tipo ordinato minchia oh siamo tipo alle tue ore di di bevuta e tu sei leggermente il ticcio ti porta no siete rimasti tipo in in quattro cinque in gara vi portano una bevanda devastante uno spirito nanico e le leggende narrano che uomini coraggiose sono andati letteralmente in fuoco dopo aver provato a bere questa roba io mi tolgo la parte cioè mi sfido la parte super del kimono la carpa dorata tra le fiamme di shizuru ok la gente la gente ti osserva con stupore guarda il tatuaggio loro hanno tatuaggi rumici principalmente quindi è una cosa leggera è abbastanza sconosciuta ciò di meno però sembra apprezzare ah comunque una cosa che non avevo mai descritto proprio nel dettaglio tau c'ha il fisico sulle braccia molto definito c'ha la pancetta c'ha c'ha la pancetta sempre 1,70 per 90 kg anche perché con tutto quello che bevi madonna eh sì sì c'è proprio la pancia fammi fortitude ehm dai dai questa volta vado giù allora fammi un'altra un'altra fortitude subito qua mamma mia e invece no prendi intanto un meno due morale a tutte le stazioni in Italia ah ok su drain no su no sì inizia a sentirti abbastanza inizia a sentirti abbastanza ubriaco riesci a bere questa questo spirito nanico senza troppi problemi cioè all'inizio in realtà il suo sapore il suo ti brucia in gola senti un torpore che ti va giusto tutta la trachea fino allo stomaco e ti viene quasi distinto di ricettare tutto però poi riesci a trattenerti l'ultima bevanda che vi portano perché siete rimasti in due per un alcolico che questi questi ulfeni definiscono assenzio comunità tra l'altro tra i vari assensi ti spiegano che è uno tra i più forti cioè uno dei più forti tra i vari assensi che vengono distillati in queste terre è una bevanda che è molto in voga tra gli artisti perché dice stimoli la creatività tu vorrai che dopo dovrò suonare fammi forti chute allora aspetta allora innanzitutto prendi per i bonus morali alle caratteristiche fisiche e prendi o meno due ulteriori a tutto sia fisiche che mentali quindi le mentali vengono da meno 4 inoltre devi farmi un altro tiro di di fortitude sì ma al momento sto tipo scemo cioè ho resisto beh sì praticamente sei sei completamente ubriaco ti senti inebriato fino fino al midollo sai proprio quando sei partito di testa chiudendo o meno ti ricordi questa parte eh ti senti così aspetta aspetta un attimo vedo che c'è un problema con la scheda ok se esiste un attimo ma aver pevuto quest'ultima quest'ultimo bicchiere a corno di assenzio la testa inizia a girarti così prepotentemente la vista appannata si fa sempre più lampante è l'ultima cosa a vedere no cioè non riesci non percepisci nel senso sei il tuo non ma ormai devo resistere proprio sforzo con tutto me stesso non riesci non riesci l'ultima cosa che ti l'ultima cosa che ti ricordi è che diventa tutto nero tipo c'è ora la faccia stracontorta contorta si descrivi pure descrivi pure come caroli per terra cioè tipo su chi viene servito in un in un corno in un classico corno in realtà di quelli che usano un corno d'assenso che è andato giù Cristo una bottiglia infatti la CT era tipo 30 vabbè tipo continuando a battere le ciglia proprio per forza a me a vedere un po' per volante sollevo sto corno lo lo trangugio fino a una certa poi penso invece è strozzo quasi si ti viene da vomitare la tossia rimutta qualcosa dalla bocca e poi tipo devo 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 tipo la vomitata perdendo completamente i sensi però tipo con tutte le braccia tese che si vedono tutti i muscoli tesi che cercano di resistere ma grazie e alla fine tipo bloccato cado all'indietro rovesciando mi ricorrono addosso e continuo a vomitare mentre stai sempre da convulsioni e mi trago per terra l'altro canto però che può interessare il suo avversario fa la stessa fila quindi non ha vinto nessuno no in realtà ha vinto il suo avversario perché ha resistito un po' di più quando si considera si considera questo che vergogna entrambi battuti così all'ultimo round si si vieno voglio il video del fine settimana che passerai a sciottate corne di assenza si beh facciamo diciamo concludiamo e poi stacchiamo per quanto riguarda Aidan tu ti mantieni ti mantieni un po' sulle tue perché sei sei indignato col re sei indignato con la società e a tuo modo sei indignato anche con i tuoi amici che non sembrano voler accettare ciò che è successo come se non fosse effettivamente successo niente come se fossimo tutti amici come prima a te questa cosa non va bene ti senti un po' anche tradito quando vedi Americo che si diverte con Sam in coia alla fine forse loro cercano di scaricare la propria attenzione così il proprio dolore in questo modo lo spidey stesso sembra divertirsi vabbè è preso proprio la persona giusta ah cazzo non devi farla scazzottata col col tipo eh si ah chi la deve farla scazzottata facciamo sto scazzottato ok la serata sta avvolgendo quasi il termine quando quando da un collosse per terra obriaco imprega gli spasmi e Akira ribalta il tavolo e crea una specie di arena per combattere a mani nude contro il capitano guardia tutti vi incitano chi stava osservando la gara di bevute è venuta verso di voi ed hanno creato un'arena con i propri corpi siete in cerchio in mezzo a questo appunto questo cerchio mortale qui uno di voi due cadrà per terra tu Akira però sei certo del risultato beh insomma non sono certo più di niente in realtà Ameiko ti sta incoraggiando dagli spalti dietro in te mi sono comunque tolto l'armatura per una certa cioè quando ritogli l'armatura le le nobili donne le le accompagnatrici lasciano tipo andare dei credolini lascivi ci credo e fanno commenti sconci però mi temo il guanto scudo no no tolgo tutto sono mica una wimpy del caso esatto togli tutto eh martial flexibility metto dodge ok aspetta tiriamo iniziativa uso anche win no niente basta solo quelli tiro iniziativa che a a a a Ok. Quanto è il bub, scusami, il power attack con, no, non ti dico il bub, eccetera, facile così, anzi, te lo dico, quant'è il power attack con la, con il bub più 11? 12, 12, 12 quindi, sì, ok, perfetto, sì, ok, vai, tocca prima a te, a quanto pare, anche se, cioè, lui sta scattando verso di te e tu riesci ad anteciparla. Allora, uso find weakness, per aumentare la class armature. Ok. Adesso vado a 18 dica. 18 dica. Allora. Flurro di brutto. Aspetta. 18 dica. Vedi che... Vedi che... Aspetta, ancora, c'era solo una swift quella. Ah, sì, 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 hai ragione, ragione. Vado, vado. Allora. Non contare gli extra damage. 3. 18, 23, 51. Sono tutti i danni non dettagli, ovviamente. Sì. Presa. Vedi, vedi, probabilmente lui si butta su di te, tu ti fai indietro, tira un colpo. Anzi, lo scrivo tu. Attendo l'ultimo momento in cui lui arrivi sotto. Attendo il suo colpo, mi faccio scarto di lato e gli riempio la milza di colpi. Proprio velocissimi. To, to, to. Proprio per portarlo allo stordimento. Sì. Lui si gira verso te, verso la tua posizione. In un attimo, una frazione di secondo, ti ringha contro. Fa un passo indietro, apre le braccia e vedi che i suoi bicicletti iniziano a pomparsi. Ti urla contro e poi si getta verso di te con una tecnica che in realtà non è buttata lì a casa. Vedi che mette le braccia davanti alla faccia come per proteggersi. E' una cosa che non hai visto fare spesso in Lavarise. Però sai che esiste ed è molto efficace. Vedi che fa molto gioco di piedi. Aspetta. Sono 43 danni. Si porta verso di te. Tu ti fai un attimo indietro come per pararti dai suoi colpi, dalla sua carica. Lui fa una finta bassa. Tu ci abbocchi, praticamente abbassi la guardia e poi lasci andare un montante col braccio opposto. Quando sei un po' stordito ti tira due punti veloci con l'altro braccio e ti manda indietro. Ti sorride e si pulisce tipo la guancia dal quale tipo gli scendeva un gocciolino di bava. Non sai fare di meglio, demone rosso. Sempre che parli tu. Vieni a prendermi. Faccio un altro passo in avanti. Di nuovo. Provo a scartare di lato e dagli un altro... Un'altra ciaffata. L'extra damage perché cos'è? Eh no, è il furtivo, non contare. Ah si, si, si. Sono 42 danni. Quindi va a 93. Mi fai weakness di per mettermi l'armatura. Fai la stessa cosa di prima? No, faccio finito di farla. Faccio di nuovo il passetto per andargli a tirare i pugni alla milza e poi invece decido di caricare un unico singolo pugno e tirarglielo sulla faccia. Lui incassa il pugno quasi cada lì indietro. E ti guarda? Sto ridendo. Mi hai rotto la guardia. Adesso... Nessuno ci era mai riuscito a farlo. Adesso ti ripro anche il culo se vuoi. Provo a dirmelo un'altra volta. Sono... Aspetta... Sono 30 danni. Quanto sei? Mancano culici. Si avvicina verso di te molto velocemente. E... Ti tira un calcio basso allo stinco. Facendoti perdere l'equilibrio. Abbassa la guardia. Un unico pugno in faccia. Proprio come gliel'hai tirato tu. Ti senti stordito. Cosa c'è? Non te lo aspettavi? Ok. Da quella posizione prona... Faccio finta di essere... Un mezzo... Un mezzo... Non sei prono. Sono tipo... Abbassato. Faccio finta di essere stordito. Sì, sì, sì. Penso. Tu... Ehm... No... Ma... Paolo... Ok, scrivemelo È il colpo finale Quando arrivi, poi nel momento in cui arriva Gli do un pugno Quando lui sta per alzare il braccio per tirarmi un pugno O quello che sta facendo Ah, no, aspetta, aspetta Mi sono scordato una cosa Vabbè, non conto del tempo No, dai, vai, dimmi, dimmi Quando lui alza il braccio per tirarmi l'ultimo colpo Io alzo il pugno E gli colpisco il gomito Con il pugno Così come ho fatto con il Tetsugo In modo da distruggergli l'attacco E quando lui Nel momento in cui sta Sarà nel panico Perché gli ho spostato il colpo Il solito back arrow backflip Di calcio sotto il mento Per mandarlo al tappeto Con due calci però Quindi lo prendo con tutte e due Aspetta, non mi è chiaro Questo backflip Però come lo fai? Sono abbassato Quindi mi do la spinta verso l'alto E con entrambi i piedi Sotto il mento Ah, ok E poi tipo fai la capriola dopo Ok Al che Dopo un colpo così potente Il capitano delle guardie Crolla A terra Senza Senza Che ormai ci sia possibilità Per lui Di iniziare questa battaglia Faccio come Come uno stambecco Colpito da una freccia Sul collo praticamente Cioè Proprio Se capite no Corre Sta correndo Pah Cade così Chiù di botto Uguale Uguale Quale il capitano Nella sala Esplode Un voto Di Acclamazione Il demone rosso Ha battuto il capitano Impossibile La gente Ti acclama Cantano il tuo nome O meglio Il tuo soprannome Che ti hanno dato Il re Non sta applaudendo Però Sembra Avere uno Sguardo enigmatico Un mezzo sorriso Sulla bocca Si avvicina verso di te Cioè Scende dal trono Si avvicina verso di te La La folla Si Si Queda Improvvisamente Le pallate Si interrompono Lo guardo Fissamente Mi tiro in piedi Bene Anche se sono Pesto Cosa ne diresti Di entrare Nella mia Cerchia Te guardi Personale Sei molto Abile La mia Abilità No Non ho mai visto Nessuno Atterrare Il mio capitano A mani nude Queste non sono Mani nude Mio sire Sono le mie Armi Lui Lui guarda Sconcertato Il suo capitano Costui Costui Per terra E ora Era Un pugile Professionista Sai cos'è Il pugilato Forse no Una cosa del genere L'ho raccattato In una bettola E l'ho Fatta diventare Ciò che è adesso Pensaci Lachina Ciò che potresti essere Al mio fianco Al vostro fianco sire Sarai semplicemente Un traditore Perché tradirai la mia Vera La mia vera sovrana E chi sarebbe La tua vera sovrana Sembra Alterarsi Un poco Io sono Akira Amatatsu Sono un principe Della stirpe Della Amatatsu Ed è là Il mio posto Ma La vostra offerta È molto Lusinghiera E vi ringrazio Lui Scoppia a ridere Un principe E poi si fa serio Non state scherzando Non sto scherzando Mio sire Come non stavo scherzando Questa mattina Avrei dovuto concedervi Un'accoglienza Ben più rispettosa Di ciò che è stato Abbiamo dovuto viaggiare Con maschere E indumenti A coprire la nostra A coprire la nostra Verale identità Perché Coloro che abbiamo sconfitto Quest'oggi Scusami Coloro che abbiamo sconfitto Cercano Cercano di Evitare che noi Riusciamo a riprendere Ciò che c'è Nostro di diritto Noi siamo Gli Amatatsu Gli ultimi Gli Amatatsu Comprendo E se posso essere Franco Sono abbastanza Certo Che quando Il regno Del Min Kai Sorgerà Sorgerà Con la sua Imperatrice A capo Potrò Rivolgere A Kalsgaard Uno sguardo E vedere Un amico Lui alza la testa Fiero Io Vi prometto Sul mio nome E sulla mia famiglia Che Troverete sempre Un alleato Qui A Kalsgaard Fintanto Almeno Che le cose Andranno Come voglia Eppure però Sono vecchio Amico mio E il mio viaggio Verso Valenor Si sta Per Compiere E mio figlio Che quest'oggi Non è potuto Essere qua Prenderà Il mio posto Mi assicurerò Che porterà avanti Quest'alleanza Ti chiedo Solo Un ultimo Favore Gli ho dato del tu Questa volta E gli offro il braccio Sai con Con il Saluto All'avambraccio Sì Ti chiedo di ricevere Coloro che hanno ricevuto Il trattamento Di oggi Poiché molti sono stati feriti Sia nell'animo Sia nel corpo E prima di poter partire Con il rancore Nel cuore Ti chiedo Nella tua Magnanimità Di porgere una mano In segno di conciliazione In modo che Da qui Da Kalsgaard Potranno partire Degli alleati E non Delle persone Piene di rancore Io Ti 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 sta Dando la mano Quando Quando In sottofondo In uno degli Degli antri Della Della sala Sentite una voce Urlare Io non permetterò Che una berrazione Sibile Si corrisate A miei occhi Norte Agli invasori Decine di guardie Puntano La palestra Contro di voi E fanno fuoco Si Sono seria Sono seria Sono Sono Aspetta 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 Fammi finire Cosa succede Ci arrivano Questi Questi Tardi Di palestra Addosso Se non Vincano Delle vostre Carmi Ai vostri Piedi Il re Si guarda Intorno Estrefatto Con Lo sguardo Sconvolto Chi osa Profanare Un simile Tornimento Nella mia Timora Dietro di voi Una persona La quale Ha parlato Uno di tanti Nobili Terre Una persona Che a voi Non dice Niente Ma che forse Prova Qualche tipo Di rancore Nei vostri Confronti Vi sentite Spossati Dalle Tardi Di palestra Che arrivano Addosso Quando Ad un certo Punto Dal portone Principale Del castello Intervengono Sciami Di guardie Che iniziano A far Piazza Pulita Dei palestini Traditori Letteralmente Sciami Con le spade E le picche Squainate Che entrano Dentro E a coltello Infilano Le proprie picche Le carni Dei traditori E voi Non potete Far altro Che Osservare Questa Questa Piccola Guerra civile In cui Se trovate Cadete Si atterra Svenuti Dalle frecce Che vi hanno Colpito Penetrato Le carni Vi svegliate Qualche Ora dopo Siete sempre Nel castello Vi informano Che Le vostre ferite Sono state curate Nessuno Del vostro gruppo Ha rimasto Ferito In modo Letale Siete tutti Sani E salvi E il re Vi porge Le sue più Scusi Le scuse Più sentite Vi comunica Che il traditore È stato giustiziato E la sua testa Insieme a quella Di tutti I suoi Collaboratori Cospiratori È stata Appesa Impalata Sulle mura Della città Sette le picche Le ombre sono lunghe Mio Sire E arrivano ovunque Bisogna sempre stare attenti Ho commesso un grave errore Nel sull'armi Ed è per questo Che Dobbiamo partire Più presto Lui annuisce Già Ma a quanto pare Le ombre ghiacciate Avevano sempre Qualche alleato Dormiente Pronto a colpire Perfino In un momento Come questo Eppure però Credo che adesso Sino State definitivamente Stirpate Della città Lo spero Quelli che sono rimasti Non sono altro che Sbandate Lo spero per voi E per noi Adesso Raccoglieremo le nostre cose E partiremo subito Il re annuisce Mi manderò Una scorta Che Vi accompagnerà Sicuri Fino Fino Al confine Della mia terra Vi ringraziamo Sire Adesso andate Ok Lui sembra Sembra Provato Introspettivo Sull'argomento Cosa succede Long story short Vi Tornate Alla carovana E inizio di preparativi Per Per il viaggio Incontrate Ulf E Uxacca La quale Vi racconta Che Non può Prendere Parte Alla spedizione Nella corona Del mondo Perché Suo padre È morto Durante una spedizione Simile E lei Non vorrebbe Disonorare Il suo spirito Compiendo Ciò che Suo padre Non è mai riuscito A compiere Di conseguenza Sarà Sarà Solo Sarà Solo Ulf Ad Accompagnarvi Va bene Inizioni Preparativi Per Per Il viaggio E Per la prossima Volta Completiamo La carovana Comprate Equipaggiamento Carri E Anche Equipaggiamento Da gelo Che serve Mi do una lista Tipo Ma c'è anche Sull'accusa Del giocatore In realtà Equipaggiamento La c'è Ah Comunque Uxac E Ulf Sono fratelli Ma Non di sangue Cioè Ulf Vi spiegano Che è stato Adottato Dalla famiglia Di Uxac Quando era giovane E niente Giusto Per spiegare Quando Vi ha detto Che era Suo fratello Sì Comunque Ragazzi Ci sarebbe Dovuto essere Un combattimento Finale In realtà Ma l'ho fatta A breve Perché la prossima Volta Non voglio Perderci Un po' Tempo Voglio andare Direttamente Su Per la corona Del mondo Questo qua Con il traditore Dopo Che me stesso In quel modo Con gli alcolici Era improbabile Che dentro lì Con tutte le guardie Le cose Sì Sarebbe stato Un combattimento Di Diciamo così Di flevo Comunque Avreste combattuto Un po' Dato che Siamo fatti Troppo tardi Ho preferito Non farlo E risolverlo Così Anche perché Cioè Era Una sessione Di distacco Poi dalla prossima Non volevo Fermarmi ancora qui Volevo partire Direttamente Col prossimo modulo Quindi Secondo me È bello Buonanotte Buonanotte Andre Buonanotte Andre